Buongiorno. Allora chiedo ai commessi di avvertire i consiglieri che sono fuori se possono entrare per poter iniziare. Grazie. 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 Siamo 20. È sufficiente un consigliere regionale per poter iniziare. Se guardate un attimo basta uno. Grazie. Ecco due consiglieri e quindi consigliera Spinelli consigliera Monni quindi via il numero legale possiamo iniziare la prima delle mozioni è la mozione che è prospettata dal gruppo del PD in merito alla situazione delle infrastrutture viarie chiuse o gravemente compromesse nel territorio. Ah è stata l'unica. Allora è la 54 la prima. In merito all'attuazione del piano regionale per la tutela dell'amianto la parola a Fattori. Grazie. 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 Vi è un testo sostitutivo rispetto all'originale testo? Sì, testo sostitutivo. Appunto in premessa intanto ci tengo a dire che siamo molto felici che su una materia di questa rilevanza che riguarda la salute pubblica e l'interesse di tutti i cittadini naturalmente si sta parlando dell'amianto, della rimozione dell'amianto dalle strutture della nostra regione. Abbiamo appunto una mozione che ha in calce le firme di tutti i gruppi del Consiglio. Dunque da due anni, quindi dal settembre del 2013, la regione toscana si è dotata di una legge all'avanguardia, appunto la legge 51 del 2013, per la protezione e la bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e per la promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative. Ora mi veniva a dire da una legge fra le più avanzate, in realtà non è fra le più avanzate perché direi che a quel che mi risulta sostanzialmente ancora l'unica nel Paese a regolare in maniera così organica l'insieme della materia. Questo anche grazie, ci tengo a dirlo, all'iniziativa del Consigliere Romanelli nella passata legislatura che porta la prima firma perché questa è una legge di iniziativa consigliare. Inutile dire a questo Consiglio che l'amianto è un vero e proprio killer nascosto che sta negli edifici pubblici, negli edifici privati, nelle scuole, in tanti capannoni industriali. Sapete bene che oggi assistiamo all'estremizzazione dei fenomeni atmosferici, quindi grazie al cambiamento climatico vi sono fenomeni sempre più frequenti come trombe d'aria che scoperchiano ad esempio capannoni industriali mettendo in circolo nell'ambiente e nel terreno le fibre dell'amianto ancor più che in passato. E secondo i dati ISPO in Toscana ad oggi ci sono 60 morti l'anno dovute appunto diciamo così all'amianto. Sapete benissimo che sono molte le patologie connesse, tanti anche i tumori asbesto correlati e via dicendo. Quindi ecco la mozione che presentiamo impegna la Giunta a dare attuazione della legge perché la legge prevedeva la stesura del piano regionale di tutela dell'amianto entro sei mesi dall'entrata in vigore. Come dicevo appunto ora sono passati due anni dall'entrata in vigore della legge e il piano non c'è. E secondo appunto, lo ricordava il Presidente Gianni, diciamo questo è un testo sostitutivo perché c'è stata un'integrazione molto opportuna della consigliera Bugetti e del gruppo del Partito Democratico, rispetto appunto all'inserimento diciamo nella mozione, cioè l'invito alla Giunta a inserire nel piano regionale di sviluppo nel PRS di imminente ovviamente presentazione, appunto anche il piano di tutela dell'amianto. Come sapete il PRS è una sorta di piano quinquennale che deve già prevedere quali saranno i piani da prevedere nel corso della legislatura, appunto molto opportunamente si chiede che venga inserito il piano di tutela dell'amianto all'interno del PRS. Quindi ecco per riassumere serve urgentemente diciamo una mappatura degli edifici pubblici e privati che contengono amianto. Oggi abbiamo una mappatura incompleta perché ARPAT nel censimento del 2007 parla di 806 edifici pubblici, 111 impianti industriali, 50 impianti dismessi e contaminati, però appunto la mappatura non comprende gli edifici privati e non comprende anche le coperture, centinaia di coperture appunto di medie, piccole attività industriali, manifatturiere, agricole e tra l'altro, aggiungo per inciso, oggi esistono strumenti tecnologici avanzati anche di rilevazione satellitare, alcuni tra l'altro elaborati proprio all'interno della regione toscana che potrebbero agilmente portarci a una mappatura completa. Quindi da una parte la mappatura dall'altro lo stanziamento, ovvio, delle risorse necessarie per la rimozione dell'amianto, una grande opera utile senza dubbio perché darebbe anche centinaia di posti di lavoro e ricollegherebbe la rimozione dell'amianto, quindi la liberazione dall'amianto alla promozione della bioedilizia, del risparmio energetico, delle energie alternative, quindi diciamo anche un piano diciamo di respiro. E quindi per concludere la mozione chiede che la giunta si impegni appunto ad attuare la legge stilando il piano di tutela dall'amianto, inserendola nel PRS e reperendo le risorse necessarie. Grazie. A fattori, Ilaria Bugetti. Sì, buongiorno Presidente e colleghi. Sono lieta appunto di promuovere, di sensibilizzare tutta l'attenzione del Consiglio sul tema dell'amianto che come vedete appunto dalle firme ha riscosso in qualche modo il benestare di tutti i gruppi. È un tema molto sentito dai cittadini. Io l'ho vissuto da sindaco perché all'epoca appunto ci fu chiesto dalle prefetture di elaborare un piano generale per la risanamento dei comuni dall'amianto e già all'epoca fu molto difficile perché al di là del mio comune, che era un comune piccolo che riuscì a fare la mappatura usando quegli strumenti tecnologici che sono satellitari, quindi avendo i metri quadri esatti di tutte le coperture in amianto sul territorio, il problema fu per i comuni più grandi ovviamente, si sta parlando di 8-9 anni fa. E da lì poi, come spesso succede, le cose si inceppano per eccesso di burocrazia, per lentezza. Basta guardare la storia normativa delle varie leggi che si sono susseguite sia a livello nazionale ma anche a livello regionale sul l'amianto che poi hanno vissuto delle battute d'arresto nel corso degli anni. Credo che la regione toscana sia veramente una delle regioni più avanzate da questo punto di vista e credo che oggi ci siano le condizioni di avere uno strumento che può veramente funzionare per andare a fare la mappatura e per cominciare davvero a lavorare su questo grande tema e anche affrontarne la complessità perché, come si legge appunto da dati che ci ha dato l'ISPO ma anche l'ARPA, perché la risoluzione della giunta che fu fatta, la delibera di giunta che fu fatta appunto nel 2015, il febbraio 2015, prevedeva appunto il collegamento, questi tre settori, questi tre programmi di intervento che poi hanno mostrato una mappatura che è incompleta. La parte più difficile è sicuramente quella che riguarda i piccoli privati, i piccoli interventi a cui si arriva in maniera molto difficile, dove è difficile anche la soluzione perché spesso mancano le risorse per poter intervenire. Quindi oltre ad essere un tema di salute pubblica, questo potrebbe davvero essere un argomento che si può affrontare anche come un tema di lavoro e di sviluppo economico perché sicuramente andrebbe a coincidere con la sanatoria, l'integrazione con l'edilizia e quindi far ripartire anche quello che è poi il campo del risparmio energetico con la previsione di pannelli fotovoltaici e quant'altro. Nella legge, l'avrete letto, sono previsti incentivi, è previsto l'integrazione con l'ASL, sicurezza del lavoro, si parla di sociale, di sanitario, anche a livello nazionale ci sono tanti enti che hanno affrontato con varie modalità una banca dati già dall'Europa in poi. Ecco, in Toscana forse c'è la necessità di aggregare, di trovare una sintesi di tutti questi dati che abbiamo e di portarli a frutto. Credo che sia fondamentale anche il coinvolgimento delle associazioni di categoria che da questo punto di vista possono aiutare ed essere un strumento complementare delle pubbliche amministrazioni per andare a intervenire sia sui piccoli artigiani che su quelle realtà dove magari noi abbiamo difficoltà da arrivare. fondamentale rimane oggi la volontà di questo Consiglio e dunque l'impegno alla Giunta di affrontare e di applicare quello che è previsto peraltro nella legge come già richiesto nel passato Consiglio regionale e metterlo in quello strumento strategico che è il piano regionale di sviluppo. Questo è l'unico vero obiettivo che noi abbiamo che può cominciare a portare dei risultati in modo da arrivare da qui ai prossimi cinque anni ad avere e a misurare sensibilmente la superficie che si riesce in qualche modo a sostituire perché questo deve essere l'obiettivo. E questo fra l'altro credo che rispecchi anche gli indirizzi che la Giunta si è dato e che il Consiglio ha approvato di promozione della Toscana come una terra di qualità e di sviluppo per quelle buone pratiche dove noi sicuramente siamo più avanti di altre regioni. Ecco questo secondo me sarebbe un buon inizio per fare in modo che anche da un punto di vista della salute noi si possa essere competitivi e qualitativamente una regione che vende il benessere, la bellezza e anche la salute dei propri cittadini. Quindi mi auguro veramente e auspico che la Giunta raccolga e che nei prossimi piani strategici quello dell'amianto sia un punto fermo da cui non si può prescindere prevedendo gli incentivi giusti e quindi iniziando una mappatura concreta e reale che prevederà sicuramente degli anni però ci sono degli strumenti oltre a satelliti e anche droni che possono agevolare e facilitare tutta quella che è la mappatura e quindi aiutare. Però ovviamente occorrono delle risorse e se queste non ci sono non si riesce ad andare avanti. Penso che sia da parte di tutto il Consiglio e da parte della Giunta un tema assolutamente importante. Non avevo visto il tempo, scusatemi. Grazie Presidente, grazie. Bene, non avevo visto. Grazie alla Consigliera Bugetti, è scritta Monia Monni ma la sua sarà una dichiarazione di voto. Ieri è stato concordato il gentleman agreement che ci sarà un solo intervento e naturalmente poi sempre lo stesso gruppo può fare una dichiarazione di voto. Quindi non risponde a quanto è nel display della programmazione di interventi Monia Monni. Quindi la parola a Giacomo Giannarelli. Grazie Presidente, grazie colleghe, ringrazio il collega Fattori per questa ottima iniziativa che abbiamo sostenuto con la sottoscrizione dell'atto perché condividiamo in pieno le ragioni profonde di questa urgenza. Ricordo che proprio nel 2014 tra i primi firmatari di una mozione approvata a voto unanime in Parlamento ci furono i nostri portavoce Zolezzi, Sibiglia e Dincà. E con questa mozione, grazie al Movimento 5 Stelle ma a tutte le forze che l'hanno sostenuta, abbiamo approvato a livello parlamentare la possibilità che si individuassero dei fondi per fare questo piano regionale che uscissero dal patto di stabilità. Quindi questo è un ottimo risultato. Quindi non abbiamo scuse per rimandare ulteriormente la risoluzione di questo problema a partire dalla mappatura, in primo luogo dalla mappatura degli edifici pubblici, scuole, caserme. E in questa mozione importante, quindi introducendo l'obbligatorietà per le regioni di questa mappatura, un ulteriore sollecito a quanto già previsto dalla legge regionale, ci sono quindi, ricordo questi due punti importanti, che i fondi per la realizzazione saranno esclusi dal patto di stabilità e che verrà stabilito un preziario per la bonifica, per dare trasparenza anche nella fase successiva a quella della mappatura. Quindi esprimo il voto favorevole. Grazie a Giannarelli. La parola a Roberto Salvini. Grazie Presidente. Come si fa a dire no a votare contro un intervento per l'abolizione dell'amianto? Però bisogna stare anche copiati per terra. Perché noi l'amianto lo troviamo nel passato, persino nelle tubazioni dell'acqua. Lo troviamo in tutte le porte antifuoco che sono in quasi tutti gli stabilimenti e in tutti i repari. Li troviamo nelle scuole, nelle pareti, perché veniva utilizzato come sistema per non far venire gli schianti negli intonaci. Quindi quando noi facciamo questo tipo di intervento e diciamo aboliamo l'amianto, e siamo tutti d'accordo, non si dice solo aboliamo l'eternizia. Perché l'amianto, trovandosi da tutte le parti, si dice anche che incomincia a smantellare determinate impianti. Si incomincia a smantellare determinate scuole. Si dice che incominciamo a bloccare determinate industrie. Si dice tutte queste cose qui. Quindi io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Fattori. Però, siccome conoscendo bene la cosa, dico anche adattiamoci piano piano, perché sennò qui non mette a budget quei 4 o 5 miliardi che servono per fare questo intervento in tutta la Toscana. Altrimenti diventa una proposta così fatta al vento che poi non può essere realizzata. Perché si tratta di buttare all'aria anche dell'acquedotto. Si tratta di buttare giù delle scuole. o rintonacalle tutte. Si tratta di incominciare a chiappare delle fabbriche e dire fermo, te stai fermo, non puoi lavorare, c'è la porta antifuoco, c'è la cazdaia, c'è questo, è tutta protetta con l'amianto. Fermo tutto. Significa di fare queste cose. Quindi, sicuramente io voterò a favore dell'eliminazione dell'amianto, sicuramente. e il mio gruppo vota a favore dell'eliminazione dell'amianto. Però articoliamo un pochino di più la proposta. Perché non è che ci si può tirare la zappa su piedi noi. Risolviamo qualche problema, non ne crediamo dieci, eh, di problemi. Questo è il discorso. Vi saluto. Grazie. Vi saluto proprio. Grazie. Grazie. Tutti. Bene, si è esaurito il dibattito, rimane le dichiarazioni di voto, la parola Monia Monni. Come noi abbiamo, rispetto al regolamento attuale, convenzionalmente ridotto da 10 a 5 gli interventi, per le dichiarazioni di voto, diciamo da 5 a 2,5 gli interventi. Grazie. Sì, sarò molto rapida, non mi voglio ripetere, ma ci tenevo a intervenire su questo argomento perché io vengo da un territorio che, nonostante la crisi anche da noi si sia sentito, rappresenta il quinto polo produttivo d'Italia. È un tessuto produttivo non di recente edificazione, nasce in grande parte tra gli anni 65 e 85, quando soprattutto l'edilizia produttiva doveva rispondere a pochi revisiti. Doveva essere funzionale, doveva avere le caratteristiche dell'architettura pubica, doveva essere razionale, doveva essere economica. E quindi l'utilizzo e il ricorso all'amianto sembrava rappresentare una soluzione, dal punto di vista edilizio, eccellente perché era un materiale che aveva buone prestazioni tecniche, perché ha alte caratteristiche sia di isolamento termico che acustico e costava poco. Quindi vi si è fatto ampiamente ricorso. Il problema è che è arrivata la crisi economica, è passato il tempo, le manutenzioni si sono rarefatte, tanti di questi capannoni sono rimasti vuoti e oggi abbiamo una situazione nelle nostre aree produttive, potrei estendere anche a Prato la stessa situazione, di migliaia di metri quadrati di coperture in ethernet in pessimo stato di manutenzione, quindi chiaramente in condizioni che possono comportare rischi di esposizione più importanti. Ma non voglio soffermarmi sui rischi, sono già stati ricordati dal consigliere Fattori, che peraltro ringrazio per aver sollecitato l'applicazione di questa legge, che dal nostro punto di vista, anche dal nostro punto di vista, non può più attendere in un cassetto, ma deve essere trattata con l'attenzione e con l'urgenza che merita. Io credo che la legge che è stata approvata nel settembre del 2013, la 51, dal scorso Consiglio regionale, abbia molti meriti, intanto di essere la prima normativa completa ad affrontare questo tema nel nostro Paese e poi di essere ben connessa sia agli strumenti di pianificazione che alle norme per il risparmio energetico e quindi di essere particolarmente efficace. Ovviamente bisogna accelerare i tempi, bisogna declinarla in un piano regionale che deve, intanto sono d'accordo, definire prima di tutto e completare il quadro conoscitivo in maniera puntuale, deve individuare i siti a cui assegnare priorità, non è che si fa bomba libera a tutti Salvini, si approva il piano regionale e si elimina l'amianto. Le caratteristiche chiaramente sono quelle della progressività, perché tutte le misure che facciamo devono essere sostenibili, altrimenti si rischia davvero che diventino inutili. Quindi anche la legge si chiama per la progressiva riduzione dei rischi da esposizione d'amianto. Quindi il piano individuerà delle priorità e a queste priorità assegnerà delle risorse che io auspico siano legate soprattutto alla riconversione nel caso dei detetti con interventi che l'agganciano appunto a misure di risparmio energetico. Anche perché io credo che sia questo, su questo, sull'articolo 7 della legge, quello che la legge definisce gli interventi complementari che si gioca la nostra partita più sfidante. Cioè utilizzare un'azione legislativa già di per sé importantissima, perché va nella direzione della tutela della salute dei nostri cittadini, per promuovere azioni di recupero edilizio e di maggiore sostenibilità ed efficienza energetica. Un doppio binario, quello della sostenibilità e della salute umana e dello sviluppo, che io auspico sia sempre ispiratore delle politiche ambientali di questo Consiglio, e un'attenzione, quella al coniugare lo sviluppo e la sostenibilità, che certamente sta nella sensibilità di questa Giunta, in particolar modo nelle corde dell'assessore Frasoni. Quindi sono certa che ci sono le condizioni per fare presto e bene. Grazie. Grazie alla consigliera Monni. A questo punto noi proviamo a dare direttamente al voto. Chi è favorevole alla mozione sull'amianto? Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione è approvata all'unanimità. Grazie. A questo punto la mozione numero 56 è quella presentata da Giannarelli, Quartini e Cantone. Procedure inerenti l'autorizzazione di impianti di termovalorizzazione. La parola a Giacomo Giannarelli. Grazie Presidente. Parto dalla fine. Concettualmente con questa mozione si chiede un impegno affinché il Presidente la Giunta rispetti quanto già previsto dalla legge. Cioè faccio riferimento in particolare a un decreto legge che recepisce la direttiva europea 75 del 2010, la quale direttiva introduce l'obbligo della relazione di riferimento. Che cos'è questa relazione di riferimento? È una relazione che dà il quadro conoscitivo dell'inquinamento della falda e del suolo nel sito oggetto dell'impiantistica da autorizzare. Perché è così importante? Perché serve per ricostruire cronologicamente i fatti avvenuti, anche per capire quando ci sarà la chiusura, la dismissione dell'impianto, da dove si partiva come incidente di rinquinamento e dove siamo arrivati. Allora, il quadro dei considerato e dei preso atto che in particolare fa riferimento alla procedura di valutazione dell'impianto di Scarlino, perché secondo la nostra valutazione manca questo quadro di riferimento. Però, ahimè, la procedura è già stata deliberata, l'autorizzazione è stata deliberata dall'Ufficio di Presidente, ne prendiamo atto. Saremo anche un pochino stanchi di comunque pagare con risorse pubbliche, in particolare con questo caso di Scarlino, l'eterno ricorso a chiusura. L'interno ricorso è ricorsi, direi a questo punto, perché la vicenda si protrae per un po' troppi anni e sembra che ci sia un accadimento da parte della regione e dalla provincia a riattivare a tutti i costi questo inceneritore, sebbene il Consiglio di Stato con le sue sentenze abbia messo, secondo il nostro parere, una pietra sopra alla vicenda. Ma ci troveremo, speravo di no, ma per l'ennesima volta di fronte a un impianto autorizzato dalla Giunta, che sarà oggetto di numerosi ricorsi, e probabilmente, di nuovo, il Consiglio di Stato si esprimerà per richiudere o non far attivare questo impianto, così li perderemo del tempo. C'è un'incertezza anche economica, perché in quel territorio chi vuole investire non sa qual è lo scenario al quale deve far fronte. E con questo atto noi chiediamo semplicemente che, quindi un rispetto della legge, è particolare che vengano bocciate, quindi un impegno al Presidente e alla Giunta, ad esprimere parere negativo a tutte le proposte derivanti dalle conferenze dei servizi inerenti alla pronuncia di compatibilità ambientale relativamente all'installazione di impianti di incenerimento o comunque ad impianti che prevedono emissioni industriali, qualora non sia stato adempiuto l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, così come previsto dal Decreto legislativo del 4 marzo 2014, numero 46, denominato attuazione della Direttiva 2010-75 UE relativa alle emissioni industriali, prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Roberto Salvini Impianto di Scarlino Questo tipo di smaltimento rifiuti sembra di vedere la storia della Volkswagen di questi giorni, dove c'aveva tutti i certificati in regola, però poi aveva il motore vecchio e inquinava. E l'impianto di Scarlino sembra la stessa cosa. Tutti questi tipi di impianti vecchi hanno lo stesso problema, tutti, perché sono nati con un certo progetto. Quindi non è previsto tecnicamente il lavaggio dei fumi, perché è nato in un certo modo. Di conseguenza è come ho detto la Volkswagen, ha certi fiat e a norma ci è, tutto va tutto bene, e poi si va ad analizzare, avevano tarato le centraline, qui è uguale. Quindi questo tipo di impianto o inserisce tecnologie che abbattano i fumi e le forme di inquinamento, oppure a questo punto qui diventa quasi inutilizzabile. Questo è il concetto dell'impianto di Scarlino. Ma non solo di Scarlino, di tutti gli impianti che noi abbiamo, di quella fattura lì. Quindi bisogna mettersi l'animo in pace e cominciare a dire si può intervenire, non si può intervenire, si deve abbattere, non si deve abbattere, che si deve fare? Si deve ricostruire ex nuovo. Però il problema bisogna portarlo. Non si può ritornare alle discariche perché chiudendo un termovalorizzatore si ritorna alle discariche. La discarica è la cosa più vergognosa che c'è, praticamente. All'interno della discarica i miasmi del percolato che si sente in tutto il territorio certamente non è ossigeno. Ma sono miasmi di percolato che invadono il territorio. Quindi è la soluzione peggiore del bruciatore. A questo punto bisogna ragionare perché si va a costruire anche bruciatori nuovi. E ora andiamo a vederli. Bruciatori, termovalorizzatori, quelli c'è l'acqua sopra, il bruciatore uguale, c'è l'acqua sopra, diventa termovalorizzatore. Però ci sono anche i gasificatori. Cominciamo a vedere cosa stanno facendo in Europa. Nel centro delle città d'Europa ci sono questo smartimento rifiuti, se non altro. guardiamo e fanno l'altro, adeguiamoci anche noi. Non possiamo stare qui a fare tira e molla, faccio ricorso, poi rifa ricorso e poi si arriva in tribunale per tenere l'accesso, poi si spengono, poi si riaccende. Si sa che ormai è una cosa arrangiata, è una cosa che non è in regola. Altrimenti non si spengerebbe, non si riaccenderebbe. È chiaro il discorso. Pertanto per me questo impianto di termovalorizzatore, cioè di inceneritore, diciamo così, non può lavorare in queste condizioni. E noi votiamo contro. Grazie a Salvini. La parola a Leonardo Marras. Grazie Presidente. Io nell'intervento vorrei prima farmi delle domande e farvi anche delle domande. Chi di noi che è chiamato a votare su questa mozione conosce il progetto di Scarlino Energia? Chi di voi conosce i contenuti dell'istruttoria tecnica della votazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale che è stata rilasciata? Chi di voi e chi di noi conosce storia rispetto a questa vicenda? Anzi, addirittura io vi chiederei, chi di voi conosce rispetto alle cose che abbiamo sentito se quell'impianto è pubblico o privato? Che a sentire dalle considerazioni che faceva ora anche il Consigliere Salvini sembrerebbe come se questo stesse nella disponibilità e nella volontà degli enti pubblici, in questo caso la Regione, di decidere se addirittura distruggere un impianto. La legge a cui si fa riferimento per individuare l'obbligatorietà della relazione di riferimento è il testo unico sull'ambiente, variamente modificato, è il 152 del 2006 e in effetti l'obbligo della relazione di riferimento c'è e l'autorità competente fa una valutazione se gli impatti che ne conseguono e l'uso e la messa in gioco, diciamo così, delle sostanze pericolose ne determinano la possibilità. Io mi chiedo, sapete e conoscete questa valutazione? Sappiamo e conosciamo questa valutazione e l'autorità competente in questo caso la Regione come ha elaborato, perché lanciare degli strali, tra l'altro che sono serviti nei giorni scorsi anche a farci un po' di propaganda sulle cronache, credo che ci porti fuori strada. Allora, io mi assumo tutte le responsabilità di questa vicenda perché le ho vissute tutte, sono quello che ha firmato le delibere per i ricorsi precedenti e quindi non voglio nascondermi dietro un dito anche perché per la mole mi resta veramente molto difficile. Ma vorrei però aggiungere delle cose, sono anche quello insieme al collega Bezzini che ha firmato e approvato il piano interprovinciale dei rifiuti che non prevede l'inceneritore di Scarlino, che prevede una pianificazione delle azioni per arrivare al 70% di raccolta differenziata nell'ambito di Siena, Arezzo e Grosseto e non lo prevede proprio in virtù del fatto che se siamo vincolati al conferimento agli impianti dove si gestiscono i rifiuti indifferenziati, mai si potranno raggiungere quelle percentuali. Abbiamo anche ascoltato, io l'ho fatto in seconda battuta, quell'interessante passaggio che la Commissione ha voluto fare rispetto alla prospettiva rifiuti zero, cioè la capacità progressiva di raccogliere, differenziare, riciclare, trasformare le materie prime e seconde e rendere meno utili gli impianti finali, quelli dove necessariamente devono essere conferite le materie non più riciclabili e che in qualche modo anche in quelle occasioni si è capito bene che questa spinta deve essere vera, riconoscibile da fatti, da atti concreti di governo e dal fatto che la progressività ci porti. Qualcuno ha tradotto aspirazione alla prospettiva rifiuti zero, qualcun altro è l'assessore di Livorno del Movimento 5 Stelle, dice un'ambizione, lui dice fra l'altro di preferire le discariche nella question time che ha fatto in consiglio in consiglio comunale. Allora, al di là delle posizioni, quando una fabbrica che ha grandi impianti, sia che si tratti della Solvè, sia che si tratti della T-Oxide, sia che si tratti della Solmine, sia che si tratti di un inceneritore qualsiasi, deve presentare un progetto, l'autorità competente deve valutare se quel progetto risponde alle caratteristiche di legge e autorizzare o meno in modo rigoroso. Tutto il resto, cioè il fatto di volere o addirittura così immaginarsi che un'autorità pubblica, in questo caso tecnica, sia sottoposta alla volontà del Consiglio regionale, se dare o meno l'autorizzazione, indipendentemente dal rispetto delle leggi che fissano le compatibilità per l'esercizio di quelle attività, è pura follia. se avrà, è pura follia, ho parlato, si ha parlato, ho parlato, si rimane delle stesse opinioni. Rappresento anche una posizione politica che è quella, diciamo, descritta dal Partito Democratico di Grosseto che non ha nascosto le perplessità rispetto all'esercizio precedente e soprattutto rispetto ad una insensibilità di quella proprietà, ripeto, privata, di ragionare con il territorio e le istituzioni locali perché attività di monitoraggio e il confronto su quei risultati potessero essere messe a disposizione in modo più snello, più preciso, meno problematico. Le stesse posizioni, è un documento che se c'è la possibilità vorrei addirittura lasciare agli altri, le stesse perplessità e le stesse volontà che sono state espresse dalla popolazione nell'inchiesta pubblica e la regione ha condotto prima di arrivare all'autorizzazione e che sono contenute nella relazione finale del Presidente del Comitato dell'inchiesta pubblica. Tutte questioni che sono riprese una per una all'interno dell'autorizzazione che è stata rilasciata e che sostanzialmente non solo dà delle prescrizioni prima dell'esercizio all'adeguamento di un impianto che ha mostrato delle difficoltà, anche tecnologie come in qualche misura, anche se non proprio precisamente, venivano richiamate dal Consigliere Salvini, ma che consente di dire soprattutto vigileremo e costringeremo la società a offrire alla comunità la conoscenza diretta del funzionamento di quell'impianto. Allora, rispetto a questo, la nostra posizione è molto chiara e come abbiamo detto all'inizio della legislatura, risponderemo alle richieste di mozione, alle proposte di mozione in questo modo. Questa non è soltanto non pertinente, è una mozione impertinente e dimostra che il vizio a 5 stelle è sempre lo stesso. Da una parte si fa, quando siamo all'opposizione, demagogia e, come ho cercato di mostrare anche se brevemente, quando si governa. Infatti si usa un grande realismo. Bene, grazie a Marras. La parola a Tommaso Fattori. Sì, grazie Presidente. Noi come Sì Toscana Sinistra voteremo a favore della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, lo voglio dire chiaramente, il primo motivo è che noi vogliamo cercare di utilizzare tutti i mezzi per arrivare alla chiusura dell'inceneritore di Scarlino. Nel caso specifico c'è appunto la mancanza del quadro di riferimento ambientale richiesto dalla normativa, che per noi è ovviamente elemento essenziale, ma ricordavo appunto Marras che ci sono una serie di elementi contestuali. Il primo è quello di una zona fortemente inquinata, appunto Marras lo sa benissimo, molto meglio di noi evidentemente, essendo della zona, la produzione precedente e le attività industriali precedenti rendono quella una delle zone più inquinate. C'è un problema di fondo, cioè che il lato Toscana Sud è, per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta differenziata, il peggiore della nostra regione. Gli obiettivi mi sembra sia il 38,29% di raccolta differenziata. Credo che questo sia il punto, cioè lavorare per portare ad altri livelli la raccolta differenziata per una gestione più virtuosa dei rifiuti nella zona e l'inceneritore di Scardino, diciamo così, risponde esattamente non solo al modello opposto, ma come è stato ricordato un impianto con tecnologie molto vecchie e vorrei ricordarlo, anche questo, insomma, molti del Consiglio lo sanno, ma la società privata Scardino d'Energia, che è proprietario dell'impianto, ha verso in gravissime difficoltà finanziarie, è insolvente rispetto a moltissimi creditori e quindi presenta anche una situazione finanziaria, a nostro parere, estremamente preoccupante, che va ad aggravare, diciamo, quell'insieme di elementi che compongono il quadro. E infine c'è, come sappiamo, la vicenda che è stata velocemente ricordata di ripetuti interventi della magistratura, che nel corso degli anni sono andate, diciamo, a interrompere l'attività, a chiudere, diciamo, l'inceneritore di Scardino, poi, diciamo, successivamente sempre riattivato, però, diciamo, ora a memoria non ricordo, ma mi sembra siano addirittura tre gli interventi della magistratura, se non addirittura quattro che sono andate in questa direzione. Io richiedo che da questo punto di vista dovremmo, all'interno, diciamo, di una valutazione complessiva, che ripeto, deve tener conto dell'estrema, diciamo, inquinamento dell'area, deve tenere conto del fatto che il lato in questione ha, diciamo, una performance fra le peggiori in assoluto, che l'impianto ha quelle caratteristiche tecnologiche che oggi, diciamo, esiste un obiettivo di cui abbiamo discusso anche insieme, diciamo così, tendenziale, rifiuti zero, che ci dovrebbe spingere verso una diversa gestione di rifiuti, che possa essere un'altra alla strada. Ecco, quindi, ribadisco, noi come sito Scana a Sinistra cercheremo di utilizzare tutte le occasioni possibili per poter lavorare a un superamento, in questo caso, diciamo, di Scardino, ma, diciamo, di questo modello, che non è più un modello adeguato per la gestione dei rifiuti. Sì, caro Presidente Marras, il problema è che non sapete governare, fate solo demagogia e siete irresponsabili, perché questo lo dice la storia, la storia la conosciamo bene, ahimè, come cittadini informati che seguono la vicenda dal 1996, sappiamo tutto della storia, tutto quello che si può sapere per noi comuni mortali, ricordiamo il sequestro della procura del 2000, le sentenze del Consiglio di Stato, è tutto agli atti, siamo persone preparate, competenti, abbiamo idee diverse, ma qua chi fa demagogia siete voi, siete voi, chi è Scardino Energia? Scardino Energia è una società composta da STA, società toscana ambiente, SPA con il 65% di capitale sociale, sia in ambiente SPA con il 25% di capitale sociale, GR EcoSRL, che rappresenta l'imprenditoria grossetana con il 10%, basta andare in rete per scoprire e che tra l'altro la STA, società toscana ambiente, che detiene il 65% di Scardino Energia, è una holding di imprese, di cooperative toscane ed emiliane, Unieco, la Castelnuovese, Coplat e della banca Monte dei Paschi di Siena. Ora, io non è che voglio pensare male, Marras, non voglio pensare male, ma la storia è scritta, la storia è scritta. Aggiungo qualcos'altro entrando nel merito del documento. Qua si chiede di avere un ruolo di garante dei cittadini, anche nel momento della deliberazione di quello che esce, come parere, dalla valutazione, dalle procedure di valutazione, chiamiamole così. Siccome noi abbiamo l'obbligo di tenere in considerazione la relazione di riferimento, questo quadro conoscitivo che è d'obbligo, previsto dalla direttiva europea, recepito dallo Stato italiano, noi pretendiamo che il Presidente e la Giunta ne chieda conto quando è lì che deve deliberare. Mi sembra serio, onesto e competente richiedere un impegno di questo tipo, per una maggiore garanzia, perché riteniamo che non sia stato fatto con l'inceneritore di Scarlino nell'ultima autorizzazione, non si sia tenuto conto della relazione di riferimento. Non c'è, manca il quadro conoscitivo complessivo. Io mi aspetto dal Presidente Rossi, perché lo ritengo, nonostante l'esito delle elezioni del Presidente e di tutti i toscani, di fare, di svolgere un ruolo anche da garante e di tutela di tutti i cittadini toscani. E in quel luogo lì verificare se c'è la relazione di riferimento. Nell'inceneritore di Scarlino non c'è, e quindi non andava autorizzato. Vi assumerete la responsabilità, vi assumerete la responsabilità, oltre già a quella che è in capo a voi fino ad oggi, perché i ricorsi fatti che abbiamo perso come comunità sono colpa vostra. Mara, sono colpa vostra. La Commissione Ambieri, cambio discorso, strategia rifiuti zero, è dimostrato che si può fare. Si creano dieci volte posti di lavoro, possiamo fare senza l'inceneritore. È un obiettivo idealistico in un tempo realistico. Ci si può arrivare con progressività. Nessuno dice chiudiamoli dall'oggi al domani. Lo stesso Presidente, che lo ritengo comunque serio e preparato, non lo dice, chiudiamoli, e non ci dare de magoci, goggi, come si dice, è uno scioglilingua. Il punto è avere la volontà politica, andare oltre interessi di parte, che sappiamo tutti, basta leggere la compagine societaria di Scarlino Energia per capire quali sono gli interessi che muovono scelte politiche. Noi siamo guidati solo dal buonsenso, dalle buone pratiche. E questa è la nostra stella polare, che è diversa da quella del PD. Avere, Moni, una cosa, ti rispondo perché ci tenevo, zero inceneritori è meglio di uno, due inceneritori è peggio di uno. Siamo d'accordo? Questa è la nostra posizione. È la progressività, progressività. Il 30% dell'indifferenziato può essere gestito con impianti a freddo al trattamento meccanico-biologico, dove si recupera materiale. Quindi la frazione che va in discarica e o incenerimento è minima. E noi dimostriamo in quella mozione che, aderendo alla strategia di FITZERO, possiamo progressivamente chiudere tutti gli inceneritori e creare posti di lavoro. A voi la responsabilità politica della scelta. Bene, a questo punto possiamo procedere al voto. Ecco, la parola, la seconda dichiarazione di voto. Giannarelli, naturalmente avete visto, è intervenuto due volte, era la seconda, una dichiarazione di voto. Adesso la parola a Marras per dichiarazione di voto. diciamo che abbiamo una considerazione diversa della parola demagogia, evidentemente, e non so, a questo punto, mettendomi in discussione quale sia quella giusta. Però, due cose sono davvero distinte e questo dobbiamo essere, credo, tutti d'accordo per onestà intellettuale e non per gioco delle parti. Questa mozione non è l'affermazione di una strategia nella gestione dei rifiuti. Questa mozione è una intenzione di cavalcare una protesta che è presente nella comunità e di assoggettarne e di prendersene il merito. Devo dire che anche la posizione di fattori risente di questo. Dopotutto il suo partito o i partiti che lo hanno sostenuto avevano una grande responsabilità in tutta questa vicenda fino al momento precedente a questa nuova richiesta di autorizzazione. Però, diciamo che ci sono le posizioni politiche che si ostruiscono con linearità e coerenza e ci sono le debolezze rispetto ai contesti sociali locali. Mi rendo poco. Quindi non è questo in gioco. Mentre invece, e questo ci tengo a dirlo, rafforzando un voto contrario rispetto a questa intenzionalità che a questo punto si è resa addirittura evidente dalla replica e dalla dichiarazione di voto di Giannarelli, ecco che sulle questioni di gestione e di pianificazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Toscana, avrete, avremo la più ampia disponibilità a ragionare. Proprio perché, non c'è dubbio, meglio un inceneritore in meno che un inceneritore in più. Meglio raggiungere quote di raccolta differenziata molto elevate. Meglio incentivare la ricerca perché l'uso dei materiali che provengono dalla raccolta differenziata possa introdurre ulteriori fasi lavorative ed industriali. Bisogna essere onesti rispetto al fatto che è necessaria una pianificazione regionale perché questa è una fase industriale che va programmata secondo questa logica e questa prospettiva. Partendo da dove siamo. Il Comune di Capalbio, che è l'ultimo e il più a sud, ha il 4,2% di raccolta differenziata. Dipende dai cittadini? Dipende dal Comune? Probabilmente dipende dal fatto che negli ultimi dieci anni, anzi io direi quindici, non voglio essere troppo vanitoso per cui evito di dire le motivazioni, si partiva dalla fase artigianale. C'erano Comuni che direttamente avevano dato in appalto i loro servizi e questo sistema non cresceva perché a dominare erano i contraenti. Allora, vogliamo fare davvero un lavoro serio nella pianificazione senza pensare che ci sia domattina la soluzione che tutti noi possiamo spiegare? Noi credo che abbiamo dimostrato, anche grazie alla disponibilità della Commissione, di intraprendere questo percorso e vogliamo starci davvero dentro, senza infingimento. del fingimento. Ecco, chiaramente le posizioni che mi rendo conto sarebbe troppo bello abbandonare, che in qualche modo richiamano ad un posizionamento locale, metterle un pochino da parte con un sano ragionamento scevro da queste situazioni, un po' aiuterebbe. Comunque, mi dispiace, Tannarelli, noi ci proviamo, però bisognerebbe che ci provassero anche altri a ragionare così. Grazie. Tommaso Fattori. Grazie Presidente, non molto velocemente, ma semplicemente per ricordare questo. Lo dico anche perché spesso vedo che sui giornali veniamo chiamati in maniera fantasiosa perché questo gruppo si chiama Sì, o se lo vogliamo dire al completo si chiama Sì Toscana Sinistra ed è una nuova formazione, un nuovo esperimento. Non è un caso che Paolo Sartedio non siamo mai stati iscritti ad un partito. È vero che ci sono state forze politiche della sinistra tradizionale che hanno sostenuto questo progetto, ma questo è un progetto di superamento esattamente di quelle vecchie forme e funzionerà se supererà quelle vecchie forme. Noi quindi ci siamo presentati con un programma preciso che contiene anche una parte consistente proprio sulla strategia di più di zero e non ho problemi a dire che se alcune forze che hanno sostenuto Sì Toscana a sinistra in passato hanno fatto scelte diverse e hanno sbagliato affatto. Lo dico molto tranquillamente, dico che questo progetto del Sì funzionerà se sarà in grado di voltare pagina a sinistra. Questo lo dico senza nessuno spirito di polemica, ma semplicemente per chiarire il fatto che è esattamente il rinnovamento di questo processo del campo a sinistra la cosa che ci interessa. Questa era la pregiudazione rispetto a quanto diceva il Presidente Marras. Dopodiché naturalmente ribadiamo il fatto che rispetto a Scarlino, cioè pagina piuttosto oscura della storia dell'incenerimento nella regione toscana, si deve cambiare strada. Non lo si deve fare appunto dall'oggi al domani, soprattutto si deve trovare una forma per trovare lavoro alle persone che oggi stanno dentro l'impianto di Scarlino, ma le nuove forme di riciclaggio, smaltimento di rifiuti danno più posto di lavoro delle vecchie. Quindi bisogna anche fare un ragionamento serio che può essere la riconversione di quell'impianto in un'altra direzione che è in grado non solo di occupare le persone che adesso vi sono occupate, ma di occuparne ancora di più. È chiaro che bisogna prendere il tempo necessario per poterlo fare, ma bisogna andare in questa direzione. E l'ultima cosa, io non credo che nessuno in questo Consiglio, diciamo così, intenda, nemmeno i colleghi del 5 Stelle, per così dire, cavalcare le proteste o utilizzarle strumentalmente. Io penso che ci sia un punto diverso, che almeno sta a cuore a tutti noi, che è la partecipazione, cioè trovare delle forme per cui i comitati, gruppi dei cittadini, la società civile che su questi temi si sta attivando, possa trovare delle forme di ascolto da parte nostra, delle forme di partecipazione, per dirla in una parola a tutti noi nota, perché è da lì che possono nascere dei progetti virtuosi. Quindi l'invito è anche questo, insomma, non leggere in chiave necessariamente prevenuta anche quelli che sono i rapporti con questi pezzi, i comitati che si stanno attivando, perché in realtà è, diciamo, il sale di una democrazia rinnovata la partecipazione ai cittadini. Portavoce dell'opposizione, Presidente Claudio Borghi. Molto velocemente, la Lega Nord di solito non ha una posizione necessariamente contraria a tutti gli inceneritori. È una parte del sistema di smaltimento dei rifiuti che auspicabilmente deve essere ridotta, perché io non mi vendo per esperto di rifiuti, ecco, quindi non lo sono. È inutile che vi vengo qua a spiegare come funzionano i rifiuti. Sono da economista uno che si documenta, insomma, poi leggo dei documenti, certi possono essere più corretti, altri meno. E come un po' tutte le cose, caro Maras, qui è ovvio che non è che sappiamo tutti tutto. Insomma, siamo costretti a fare delle scelte anche su situazioni di cui ci sono informazioni parziali e quindi cerchiamo di farle il meglio possibile. Per quello che riguarda il motivo del nostro sì a questa mozione, innanzitutto un riconoscimento e anche un minimo di fiducia alla competenza in termini di rifiuti del consigliere Giannarello. Penso che qua fra di noi in termini di rifiuti è quello che se ne intende di più. Dall'altra parte è una considerazione che, ripeto, magari sembrerà superficiale, banale o quello che è, ma io personalmente, Claudio Borghi, un inceneritore in quel posto, l'ultimo dei posti che avrei pensato per metterlo, pur considerando tutto sacro il territorio della Toscana da Massa al San Sepolcro, però tenuto presente la particolarità di Follonica, che già deve avere a che fare con l'ingombrante presenza di Piombino da una parte, non ce lo metterei lì, insomma, è un'area sensibile, è un'area potenzialmente turistica, c'è puntata alla vicina, cioè, insomma, poi dopo sono cose che si pagano nel tempo. Basti guardare certe situazioni in Sardegna, dove ci sono dei posti che sono tra i più belli del mondo, dove in momenti in cui non si pensava a lungo termine hanno ben pensato di piazzare la centrale termica. E adesso c'è il posto più bello del mondo con la centrale termica e si crea un problema molto, molto, molto più grande rispetto a quello che poi dopo quella centrale termica ha risolto. Quindi bisogna pensare in là e la sensibilità anche paesaggistica, diciamo così, del territorio, dove poi dopo si vanno a inserire apparecchiature che deturpano, oltre che a inquinare, non può non essere considerata. Per cui, magari lo faccio sulla base di informazioni non complete, però non me la sento di sostenere un inceneritore in quel posto lì e quindi qualsiasi cosa gli mette i bastoni fra le ruote, quindi così la dico chiaramente, insomma, perché non stiamo a raccontarci, non è che vado a dire che è proprio la relazione che mi interessa particolarmente, qualsiasi cosa che gli mette i bastoni fra le ruote ne sono contento. Sulla proprietà mi spiace però ogni volta che ho provato a andare a indagare la proprietà delle ditte, delle società che si occupano di rifiuti, sempre lì arrivo. Da una parte o dall'altra mi trovo sempre a Castelnovese, mi trovo sempre a certe cooperative, che mi trovo sempre il Monte Paschi, effettivamente, che in una maniera o nell'altra fanno capire come ci sia un intreccio ormai, secondo me, molto difficilmente separabile, se non con un cambio deciso di governo di questa regione, fra un partito, la cooperativa e quello che poi dopo alla fine ci guadagna su queste cose. Insomma, mi spiace, non è una situazione che mi sembra particolarmente positiva, però è vero che non c'è l'identità fra la regione e il soggetto proprietario di queste opere, ma fra il partito, secondo me, abbastanza. Grazie a Borghi. Procediamo al voto. Allora parliamo della mozione numero 56 e le procedure di renti, autorizzazione, impianti termo alla valorizzazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione è respinta. E adesso procediamo alla 67. Vi era prima che la 66, però il consigliere Donzelli, che è quella che riguarda l'entrata in vigore della normativa regionale in materia di certificato di abilitazione alla vendita, consulenza, acquisto, utilizzo e prodotto fitosanitari, ha consentito a una richiesta che veniva formulata, se non vado errato, dal consigliere Nicolai, Donzelli ha consentito al rinvio in commissione di questa mozione, appunto richiesta formulata dal consigliere Nicolai, quindi soprassediamo, anche se rimane all'ordine del giorno, perché la 66 va in commissione. La 67 invece è quella presentata dal consigliere Mazzeo, con il consigliere Gazzetti, quindi Pisa e Livorno uniti, in merito alla situazione dei lavoratori civili italiani licenziati e appartati al primo gennaio 2013 a seguito della riorganizzazione delle basi militari estere in Italia. Naturalmente chi è sensibile al territorio di Camp Derby è chiaramente in grado di segnalare nel modo più appropriato la posizione della regione. Do la parola a Francesco Gazzetti. Grazie Presidente. Questa mozione si colloca in un solco, in un alveo che credo appartenga a tutto il consiglio, trasversalmente a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere, cioè l'impegno per la difesa dei posti di lavoro e più in generale la questione della creazione di condizioni per lo sviluppo e soprattutto anche la crescita economica. La mozione è stata firmata e presentata dal collega Antonio Mazzeo e da me, però sicuramente appartiene ha un impegno comune e congiunto che va al di là delle questioni e delle appartenenze. Abbiamo incontrato sulla nostra strada nei mesi scorsi le persone che sono al centro di questa mozione e dunque abbiamo deciso di presentare quest'atto che tra l'altro si rivolge direttamente alle possibilità della regione di interloquire con il governo. La questione del lavoro è la questione centrale, in questo momento lo sappiamo tutti, sui vari territori sono presenti numerose vertenze, a me piace sottolineare l'impegno della regione attraverso il Presidente Rossi, il Consigliere Simoncini, su tante questioni. Ieri abbiamo parlato di Floramiata, dai territori arrivano molte sollecitazioni, in queste ore a Livorno c'è grande attenzione e preoccupazione sulla questione ad esempio delle liambrosetti, ma ovviamente sono veramente molte le tematiche e soprattutto le vertenze che richiedono l'impegno da parte della regione e non soltanto della regione. Per entrare nel merito molto velocemente di questa mozione si tratta della situazione dei lavoratori civili italiani licenziati a far data dal 1 gennaio 2013 a seguito della riorganizzazione delle basi militari estere in Italia. Il testo della mozione è un testo molto articolato, ben scritto ottimamente dagli uffici, ci permette anche di delineare il quadro che arriva prima anche della situazione con la quale stanno facendo i conti un gruppo di lavoratori. Quello che si richiede alla Giunta regionale è quello di mettere in atto tutte le iniziative possibili e opportune nei riguardi del Governo affinché nella prossima legge di stabilità si provveda a rifinanziare adeguatamente il fondo di cui all'articolo 2,100 della legge 244 del 2007 al fine consentire l'utilizzo finalizzato alla ricollocazione lavorativa diritto sancito dalla legge di tutti i lavoratori civili italiani impegnati, impiegati in basi militari estere in territorio italiano licenziati per il primo gennaio 2013 e il 31 dicembre del corrente anno. Per quanto riguarda la realtà toscana il numero è di cinque lavoratori, tre di Livorno, uno di Piso e uno di Viareggio licenziati alla fine del 2014, alcuni hanno avuto un anno di aspi, altri otto mesi, in ogni caso adesso sono tutti senza alcuna forma di sostegno al reddito. Questo in sintesi, la filosofia e soprattutto anche il contenuto della mozione che, lo ripeto, dal nostro punto di vista si colloca in un impegno generale e trasversale per quanto riguarda la difesa dei posti di lavoro e più in generale il tema dell'occupazione e del lavoro nella nostra regione. Grazie Presidente. Grazie Gazzetti. Al voto la mozione, che è favorevole? Ah, c'è Irene Galletti. La parola a Irene Galletti. Grazie Presidente, colleghi, sicuramente il nostro voto sarà a favore in quanto va a tutela di lavoratori e per noi di qualunque provenienza siano lavoratori naturalmente sono sempre qualcosa da tutelare. Quindi voteremo a favore di questo. Soltanto in questo caso questa proposta viene fatta in maniera diciamo molto indirizzata a quelle che sono le problematiche di questi lavoratori della base che noi conosciamo e che fa parte del nostro territorio. Avremo una richiesta da fare riguardo l'asso temporale per il quale chiediamo che venga rifinanziato questo fondo e che vorremmo chiedere che venisse tolta la data in modo che si potesse allargare, estendere questa tutela che noi oggi chiediamo per questi cinque lavoratori a tutti i lavoratori che si ritroveranno a perdere il lavoro che ci possano essere trovati precedentemente o che ci si troveranno successivamente. Quindi è semplicemente un estendere questo tipo di tutela che noi chiediamo. È l'unico emendamento di cui che vorremmo chiedere al riguardo. Per il resto la proposta sarà da noi sostenuta. Mazzeo. La richiesta io non c'è nessunissimo tipo di problema se non che comunque per inserirlo all'interno della finanziaria che è una proposta e un impegno concreto che noi chiediamo al governo ci vuole un lasso di tempo perché loro devono valutare sostanzialmente la parte economica da inserire all'interno. La motivazione è solamente questa per cui si è messo un tempo certo e ben definito. Se vogliamo mettere all'interno dei rilevato, quindi nella fase iniziale che questo deve essere ampliato a tutti anche in futuro pienamente disponibile altrimenti rischiamo di fare una mozione e poi come dire quando arriva a livello nazionale ci trovano il problema di forma e non viene inserita nelle discussioni che loro fanno. Grazie. Salvini. Sì, anche noi della Lega Nord siamo favorevoli a questa mozione. chiaramente si tratta di rifinanziare, come diceva Mazzeo, la cosa, di portarla in alto anche se il numero ormai è molto esiguo rispetto a quella che era la base vent'anni fa, insomma. Quindi noi siamo favori di avere la mozione. Bene. Io, se deve essere formulato un emendamento ho bisogno del testo. Magari sa passare quella dopo. Chiedo al consigliere Mazzeo, possiamo passare a quella dopo. Mazzeo Gazzetti, naturalmente, ai presentatori. Direne Galletti. Direne Galletti. Potremmo passare a quella dopo. Lei formula l'emendamento e poi ci ritorniamo. Benissimo. Allora, a questo punto andiamo temporaneamente alla settanta, presentata da Viscovi Alberti, Casducci e Montemagni, concernente il mantenimento delle disciture padre e madre. Vista l'autorevolezza e l'importanza della proposta, Borghi, la parola. In realtà c'era un forte desiderio della consigliera Montemagni, in quanto unica che si potrà freggiare del titolo madre, quantomeno nel nostro gruppo, di presentare lei la proposta. me l'aveva, cioè me l'aveva detto due secondi fa. Riusciamo a passare un segno? Dato che non... Eccola lì, madre. Il termine madre e padre della consigliera Montemagni. Poi è molto bipartisan per la consigliera Montemagni. Prego, prego. Ringrazio il collega Borghi per avermi lasciato l'onore di presentare questa nostra mozione. Ecco, per noi questo è un tema estremamente delicato, è un tema che noi sentiamo, io soprattutto in quanto donna, anche se per ora madre non sono, spero un giorno di diventarlo. E penso che per ogni donna sia un onore essere chiamata mamma, penso che per ogni donna sia un grande, anche onere, essere mamma. Perché mamma è la figura centrale della famiglia. La mamma è quella che tiene in piedi la famiglia di fatto. È quella che fa quasi sempre quadrare conti in casa. È quella che cresce i figli. È quella che passa anche più tempo con i figli. È quella che porta un figlio in grembo per nove mesi. È quella che poi allatta il figlio nei primi mesi. Quindi è una figura per noi fondamentale. È fondamentale la figura del padre. Il padre è il capofamiglia. Il padre sarà sempre la figura forte della famiglia. E a noi che queste due figure possano in qualche modo essere cancellate è una cosa che ci indigna particolarmente. Ci indigna per una questione anche di rispetto, per una questione di etica. Per noi questa è una mozione che, se vuole, rivendica quello che è semplicemente la natura umana. Rivendica quello che la natura vuole. E che un figlio possa avere due figure ben distinte e ben divise anche per i compiti che hanno nell'educazione. e per cui noi presentiamo questa mozione a tutela di quelle che sono le persone che determinano il futuro della nostra società. Quelle che metteranno al mondo il figlio e quelle che poi lo cresceranno e lo introdurranno alla vita. Paolo Sarti Dunque, se ci richiamiamo alla natura umana ovviamente è così vasta e variegata che dovremmo essere molto inclusivi di tante altre realtà. Ora, nella mozione si dice che si esprime sincero apprezzamento nei confronti della Giunta del Comune di Arezzo che ha prontamente ripristinato in tutti i modi la dicitura padre e padre. Ecco, io esprimo invece un giudizio negativo e critico su questa scelta che lo considero un passo indietro. Un passo indietro verso quel cammino che ci deve portare a una tolleranza, a un'apertura inclusiva di tutte le minoranze. Ora, le parole contano. Contano tantissimo. Possono rappresentare anche dei muri, possono rappresentare delle occasioni di discriminazione, di separazione. Quindi aprire a tutta una serie di realtà anche semplicemente con queste parole che includano più, che rendono più possibile essere rappresentati in fondo è una forma di democrazia, una forma di civiltà. Tutte le volte si torna indietro in questi passi che vogliono aprire alle vere realtà naturali che sono tante. Credo che si faccia un torto alla civiltà. Quindi ovviamente voterò, voteremo il nostro gruppo assolutamente contrario a questo. Ciazzucci? Grazie, Presidente. Questa mozione che oggi presentiamo concerne il mantenimento delle diciture padre e madre sui moduli di iscrizione degli alunni a scuola. Infatti, secondo la ideologia politica, l'e-correct, si dovrebbe desessualizzare la genitorialità, in quanto le diciture padre e madre potrebbero essere sentite come discriminatorie da qualcuno e quindi dovrebbero essere sostituite da nuove diciture politicamente più corrette, genitore 1 e genitore 2 come è già successo a Venezia, oppure di genitore richiedente e di altro genitore come è già successo a Bologna. Questa sostituzione delle parole, peraltro, è già accaduta in Toscana, d'Arezzo, dove la nuova amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli e sostenuta in consiglio comunale dal gruppo della Lega Nord di cui faccio parte ha già provveduto a ripristinare le diciture padre e madre sui moduli di iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia comunali. E per questa decisione il gruppo di Lega Nord esprime anche in questa autorevole sede il proprio sincero apprezzamento. Occorre partire dal dato di fatto naturale in quanto tale incontestabile che tutti in questa terra siamo stati generati da un uomo e da una donna, in qualunque modo sia avvenuto il concepimento. Quindi la realtà contraddice le opinioni e soprattutto mostra che nessuno può sentirsi discriminato dalle diciture padre e madre perché, ripeto, tutti, proprio tutti siamo stati generati da un padre e da una madre e dunque siamo loro figli. Ma oggi purtroppo la mentalità dominante afferma che se i fatti contraddicono le opinioni allora tanto peggio per i fatti. Quindi non potendo ovviamente eliminare la natura per legge si decide di abolire le parole che dicono la natura delle cose. In questo caso le diciture da sempre usate padre e madre. Si tratta tuttavia di un impoverimento, non certo di un arricchimento, perché nessun progresso può e potrà mai derivare dalla cancellazione del passato. Il nome che non potrà mai diventare obsoleto è proprio quello di mamma e di papà, di madre e di padre, che sono la nostra storia, le nostre origini, le nostre radici. In quei paesi dove è consentita l'adozione di figli da parte di coppie omosessuali ci sono famiglie con due mamme o due papà. Ovviamente, e ci mancherebbe altro, nessuno nega il diritto ad amarsi da parte di due donne o di due uomini. Però riteniamo che il luogo ideale per la crescita di un figlio sia e rimanga la famiglia tradizionale, composta da padre e da madre. Per questo siamo e restiamo assolutamente contrari all'adozione di figli da parte di coppie omosessuali. Con la nostra mozione intendiamo riaffermare con forza questi valori naturali, senza che nessuno possa sentirsi offeso ed intendiamo altresì evitare che l'ideologia politicamente corretta possa creare disagi e altre discriminazioni verso le figure fondamentali del padre e della madre, creatori di vita e fulcro delle nostre famiglie tradizionali. Per questo Lega Nord voterà a favore della mozione che il nostro gruppo ha presentato. Monia Monni Io farò anche dichiarazione di voto quindi forse prenderò un minuto in più. Uno dei principi cardine dell'Unione Europea ma anche della nostra Costituzione è che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti indipendentemente da origine, nazionalità, condizioni sociali, credo religioso e ovviamente orientamento sessuale. In Italia purtroppo non abbiamo ancora una legislazione organica per le unioni civili ma su questo mi sento di rassicurarci insomma l'avremo presto. Intanto però si può parlare soltanto di coppie di fatto che è vero non sono riconosciute giuridicamente però è anche vero che non sono rilevanti per il diritto tanto che il 15 marzo del 2012 la Corte di Cassazione italiana ha depositato una sentenza che è la 41-84 del 2012 con cui affermava che in alcune specifiche situazioni le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per far varire il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e che i componenti della coppia a prescindere dall'intervento del legislatore in materia sono titolari del diritto alla vita familiare del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni nella mozione peraltro si parla di registro delle unioni civili e mi sembra opportuno ricordare che il primo registro è stato adottato nel 93 dal comune di Empoli quindi da un comune toscano al quale poi sono seguiti altri 318 e si dice nella mozione che nelle intenzioni il registro voglia equiparare le coppie unite in matrimonio alle coppie di fatto precisando che però non ha effetti giuridici io credo siano due inesattezze perché il registro delle unioni civili è semplicemente un elenco dove ci si iscrive con diciamo le distinzioni operate dalla legge si iscrivono le persone che non sono legate da vincoli legali ma soltanto da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà è chiaro che non risolve i problemi di ruoto legislativo che speriamo duri ancora per poco in materia ma rappresenta comunque una prima forma di tutela giuridica infatti assegna alcuni diritti tra i quali la possibilità di accedere a elenchi come quelli per le case popolari che altrimenti sarebbero destinati soltanto alle coppie coniugate e la possibilità per esempio di equiparare il partner a un parente prossimo potendo quindi mettendolo in grado di ricevere notizie sullo stato di salute in caso di ricovero in ospedale perché purtroppo purtroppo viviamo in un paese dove avere amato e vissuto una vita intera accanto alla stessa persona non dà nemmeno il diritto di assisterlo durante la malattia quindi insomma le coppie di fatto esistono bisogna prenderne atto spesso sono anche persone dello stesso sesso e a volte hanno anche figli e francamente non mi appassionerebbe questa discussione lessicale che distingue la parola genitori dalla parola padre e madre se non cercasse di chiudere gli occhi di fronte a una realtà che sostanzialmente semplicemente esiste perché se utilizzare un termine più generico non toglie i diritti alla famiglia tradizionale non ne aggiunge ovviamente alla famiglia non tradizionale certamente ha perlomeno la delicatezza di prendere atto che in quelle scuole possono esserci dei bambini che semplicemente un padre e una madre non ce l'hanno ma che comunque hanno dei genitori che per questi bambini rappresentano la propria famiglia che quindi hanno diciamo un rapporto come qualsiasi altra famiglia di amore reciproco quindi io non non capisco perché la parola genitore debba essere dispregiativa o diminutiva in fin dei conti questa distinzione lessicale apparentemente innocua va a colpire solo e soltanto quei bambini quindi e concludo per questo essendo comunque fermamente convinta come ha recentemente dichiarato l'onorevole Cirinna che per l'appunto è la relatrice del DBL sulle unioni civili che a noi spetta il dovere di occuparci di leggi e di diritti e non di peccati vorrei anche io citare fare una citazione come si fa nella mozione di Papa Francesco che viene tirato sempre per la giacchetta va sempre bene citare Papa Francesco che al di là della singola citazione mi viene in mente quando tornando dal primo viaggio internazionale a Rio disse che se una persona omosessuale è di buona volontà ed è in cerca di Dio io non sono nessuno per giudicarla ma al di là delle singole dichiarazioni è chiara la grande apertura e la grande sensibilità alla complicatezza alla complessità di questo tema che infatti fa anche parte del sinodo della famiglia che attualmente è in corso e vorrei però citare in conclusione il cardinale Reinhard Marx che è uno dei consiglieri del Papa ed è arcivescovo di Monaco di Baviere presidente della conferenza episcopale tedesca che nel corso del briefing quotidiano proprio del sinodo della famiglia ha dichiarato l'esclusione non è la lingua della chiesa se c'è una relazione omosessuale fedele per 30 anni non posso dire che non è niente non è possibile dire a queste persone tu sei un cristiano di seconda classe ecco noi non vogliamo dire a questi genitori e a questi bambini e a questi figli voi siete cittadini di seconda classe ed è per questo che il gruppo del PD convintamente voterà contro questa mozione Paolo Bambagioni per una dichiarazione di voto in difformità al gruppo condivido quello che ha detto Sarti cioè che le parole hanno un significato e quindi proprio perché hanno un significato credo nella stessa dichiarazione di voto della consigliera Monni a nome del gruppo PD è stato evidenziato il fatto che la legislazione attuale non prevede né unioni civili né matrimoni tra gay tantomeno le adozioni e quindi io direi che siamo uomini che come dire si deve rispettare le leggi italiane e poi quando si farà un cambiamento che sembra sia nell'area ci adegueremo a cambiamenti ma l'uso di parole non è casuale ha un valore molto importante e credo che coloro che hanno iniziato a sostituire padre e madre mettendo genitori eccetera in qualche maniera vogliono agevolare un percorso di accelerazione verso una strada proprio per questo credo che non sia giusto perché quando le cose si vogliono cambiare si devono cambiare dalla Costituzione dalle leggi nazionali eccetera poi di fatto non si può essere come dire rispettosi delle leggi quando fa comodo e poi quando ci stanno strette e contestate quindi siccome ad oggi non abbiamo una legislazione organica io per esempio personalmente non è questo il momento di fare una grande discussione su questo tema ma non ci mancherà l'occasione non ho niente incontrare alle unioni civili credo sia un atto di civiltà che dovremo andare ad approvare sono contrario ad esempio ai matrimoni gay tanto più alle adozioni proprio perché il significato della famiglia per me ha un valore che in qualche maniera bisogna anche tutelarla all'interno delle leggi per questo motivo io voterò a favore la mozione Mugnai si fa un po' di citazioni da qualche parte sta scritto le parole sono pietre no? perché le parole poi sono lo strumento con il quale si veicolano idee e concetti allora io inviterei a tenersi al a ciò che hanno scritto i colleghi della Lega nella loro mozione poi uno ci può vedere tutto ciò che vuole ma però vedere dentro questa mozione ciò che oggettivamente non c'è significa fare il processo alle intenzioni e ognuno di noi su questi temi l'abbiamo già detto altre volte insomma ha un proprio convincimento personale questi sono temi assolutamente divisivi però non si può pretendere che ogni volta si sfiorano questi temi si debbano alzare le barriere ideologiche qui c'è scritto semplicemente di far sì che nella modulistica modulistica si rispetti la dicitura padre e madre cioè come dire le parole che ognuno di noi ha utilizzato per rivolgersi a chi ci ha generato e allora francamente arroccarsi rispetto alle iniziative parlamentari alle idee legittime di ognuno di noi su questi temi importanti significa non confrontarsi sulle cose semplici sulle quali quantomeno ci si può trovare d'accordo e che ci siano i babbi e le mamme quando nascono figlioli non è che lo scopriamo oggi è normale e cercare di con delle come dire raffinatezze lessicali far passare dei concetti che ancora nelle norme non esistono e che comunque sono concetti che ovviamente creano grande divisione all'interno delle nostre comunità è sbagliato allora restiamo al dettato di questa mozione qui si chiede semplicemente di chiamare padre e madre coloro che nella modulistica è il momento in cui c'è da indicare i genitori i genitori di un bambino non vedo dove sia il problema tutti gli altri ragionamenti servono soltanto ad alimentare questo fuoco ideologico su temi importanti ma che non aiuta nessuno io voterò a favore come il gruppo di Forza Italia per dichiarazione di voto Sardi per dichiarazione di voto ora la società è sempre più avanti della legge credo che proprio abbia il compito di premere in qualche modo sulla legge perché la legge arranca spesso per cercare di regolamentare i cambiamenti della società allora rispettare una dicitura e non rispettare invece poche o tante altre persone che siano credo che questo debba essere preso come esempio di come possiamo premere perché la legge si aggiorni e quindi Barbagioni dice no ancora la legge non c'è quindi per ora restiamo nei regolamenti ecco se restiamo nei regolamenti sappiamo per storia che di fatto non c'è un avanzamento sociale allora è proprio la società che spinge i legislatori ad adeguarsi e credo che questa sia un'ulteriore spinta mettere genitore 1 genitore 2 una piccola per carità piccolissima spinta che si può dare al legislatore per far presto adeguarsi ai valori della società che porta quindi voteremo no prima del voto voglio far presente una mia situazione personale quindi faccio una dichiarazione di voto io nel senso che ritengo di non citare nessuno il mio è un voto assolutamente laico e parte dal convincimento personale ritengo che nel senso laico del vivere la dimensione dei diritti si debba sempre pensare anche alla persona che poi diventa protagonista in questo caso si parla di una scuola dove si scrive un bambino il protagonista non sono i genitori è il bambino e io ritengo che il bambino abbia diritto lui abbia diritto a avere come riferimento una società naturale e la società naturale che da un punto di vista biologico ognuno di noi ha è quella di avere un padre e una madre quindi io voterò a favore il testo della mozione chi è a favorevole chi si astiene anzi chi è contrario chi si astiene la mozione è respinta procediamo alla mozione numero 64 incostituzionalità del disegno di lei è già pronta la 67 bene allora mazzeo e gazzetti hanno presentato l'integrazione insieme a Irene Galletti quindi è un emendamento della mozione 67 presentato a tripla firma mazzeo gazzetti galletti nel quale si inserisce questo riferimento al dettato successivo impegno alla giunta nel caso di successivi licenziamenti analoghi dal da attivarsi con le medesime modalità nei nei confronti del governo chiarissimo quindi a questo punto essendo due dei sottoscrittori che assorbono che hanno sottoscritto l'emendamento si può considerare assorbito e quindi integrato nel testo mazzeo chiedo solamente una cosa visto che la mozione sarà approvata mi pare dalle dichiarazioni di voto all'unanimità chiedo a tutti i gruppi politici di inviare oltre che il lavoro che farà la giunta diciamo di inviare la mozione ai propri gruppi consigliari in Parlamento in modo tale possa essere seguita e avere anche lì un voto unanimo grazie metto in votazione chi è favorevole chi è contrario chi si astiene la mozione numero 67 è approvata integrata naturalmente con l'emendamento che ho letto a questo punto la 64 Vescovi Alberti Borghi Casucci Montemagni Salvini in custodizionalità del disegno e legge costituzionale attualmente all'esame delle camere chi è che interviene per illustrare c'è già Borghi scritto la parola anzi la parola a Marco Casucci visto il ritiro della precedente prenotazione del portavoce Borghi prego il disegno il disegno di riforma costituzionale Renzi Boschi non può essere propriamente e comunque in toto legittimato dal procedimento previsto e regolato dall'articolo 138 della costituzione repubblicana per la revisione della carta stessa ciò in primo luogo con riguardo alla mole delle questioni in oggetto alla riforma ma soprattutto guardando agli assetti di potere che essa si prefigge di ridisegnare infatti il progetto si avvicina senza ombra di dubbio più una vera e propria modifica della forma di governo del nostro paese le cui modifiche dovrebbero competere ad una vera e propria assemblea costituente e non invece al Parlamento risulta infatti assolutamente difficile consigliare l'istituto del referendum confermativo di fronte ad una riforma così ampia e complessa in quanto i cittadini potrebbero essere legittimamente favorevoli ad alcuni mutamenti della carta e contrari invece verso altri per questo la nostra mozione è direta di impegnare il Presidente della Regione Toscana ad intervenire in tutte le opportuni sedi istituzionali al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale della riforma Renzi-Boschi uno degli aspetti centrali di questa riforma che non può che interessare fortemente questo stesso Consiglio è il nuovo rapporto Stato-Regioni che ne deriverebbe con le sue conseguenze più dirette ed immediate lo snaturamento delle Regioni e la riduzione delle loro funzioni leggendo la relazione che accompagna questo disegno di riforma costituzionale sembrerebbe che il Governo Renzi faccia propria e condivida lo spirito della devolution che animò la legge costituzionale numero 3 del 2001 modifica il titolo quinto della parte seconda della Costituzione tutto questo però a parole in realtà una occulta logica riformatrice muove latamente agli antipoti a ben vedere si tratta infatti di un disegno di riforma che nel suo complesso è unicamente volto ad una reallocazione verso il centro del potere decisionale in completa antidesi proprio con lo spirito della devolution numerosi sono gli ambiti della riforma Renzi-Boschi in cui questo progetto neocentralista si pone in tutta evidenza esponendo la stessa riforma a critiche fin troppo scontate in primo luogo le proposte del Governo relative alla composizione e alle attribuzioni del nuovo Senato si rivelano del tutto inadeguate a garantire un democratico scambio tra le minori competenze attribuite alle regioni e una maggiore partecipazione delle stesse regioni agli affari di Stato il pluralismo istituzionale di cui l'articolo 114 della nostra Costituzione viene radicalmente travisato e tradito nel suo contenuto più naturale infatti il disegno di riforma costituzionale non garantisce una teorevole introduzione dell'indirizzo politico delle regioni all'interno del circuito statuale il testo della riforma Renzi-Boschi è teso a riaffermare le logiche della prevenenza dell'interesse definito dallo Stato e riconosce solo in rari casi quale decisivo l'apporto del politico eletto a livello regionale facendo sparire le istanze di quegli portatore se questo progetto neocentralista dovesse sciaguratamente diventare legge costituzionale di questo Stato tutti noi consiglieri regionali toscani sia a voi di maggioranza sia a noi di opposizione saremmo ormai relegati in una posizione marginale in secondo luogo il disegno di riforma costituzionale tende a mutare radicalmente la stessa natura e lo stesso ruolo che le regioni esercitano e ricoprono nel sistema istituzionale infatti secondo le logiche della riforma le regioni non assurgono più al ruolo di soggetti di elaborazione politico-legislativa come nella legge della devolution pensi adenti per lo più deputati al coordinamento delle varie amministrazioni locali i veri obiettivi della riforma Renzi sono ben alti rispetto a quelli dichiarati nella relazione e sono come si può leggere nel testo del nuovo articolo 117 ridurre le competenze delle regioni riportare tutte le decisioni in cui possono emergere profili ultra-regionali o esigenze di uniformità nazionale all'interno della competenza centrale e infine ridisegnare i rapporti tra i diversi legislatori con il fine di definire maggiormente in una logica di contenimento i fattori che in questi anni hanno dato vita a numerosi contenziosi di attribuzione tra Stato e regione il disegno infatti prevede di eliminare l'elenco delle materie di legislazione concorrente di costituire un sistema di riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni strutturato su due ordini su due elenchi di materie tra l'altro anche mantenendo la clausola di residualità a favore delle regioni questo sistema però così come pensato non può che portare a conseguenze diametralmente opposte riguarda le previste clausole di co-legislazione che compaiono nell'elenco delle materie di competenza esclusiva statale di cui è il comma secondo del nuovo articolo 117 che implicano in quanto tali l'esistenza di una competenza regionale sul medesimo ambito materiale e si guardi soprattutto ai cosiddetti titoli trasversali di competenza statale mediante i quali il potere centrale è abilitato a intervenire sulle materie di competenza regionale limitando di fatto la potestà legislativa delle regioni da ciò non potrà che derivare un periodo di faticosissimo assestamento e contenzioso giurisprudenziale di cui la Corte Costituzionale dovrà farsi nuovamente carico e questo in un contesto storico quale quello attuale in cui diversi assetti di riparto di competenza si stavano finalmente delineando in modo certo la Lega Nord combatterà strenuamente contro questa riforma ritenendo che il suo criterio ispiratore sia un chiaro e netto rigurgito antiregionalista che va contro la spinta al decentramento che da quando il nostro movimento è sorto nel 1991 ha costituito e costituisce la grande novità della politica italiana la nostra strada maestra rimane il federalismo che continueremo a percorrere senza mai mollare vado a concludere Presidente citando il Professor Miglio al Congresso di Bologna del 1994 i centralisti si illudono se pensano che anche il federalismo diventerà qualcosa come la dittatura del proletariato perché il federalismo si imporrà anche se la Lega dovesse scomparire anche se non ci fosse più chi vi sta parlando per forza delle cose grazie Presidente grazie Consigliere Casucci Presidente Bugliani grazie Presidente io vorrei stemperare intanto i toni abbastanza drastici forse apocalittici dell'intervento che mi ha preceduto comunque di chi ha proposto la mozione e lo vorrei fare riflettendo sul titolo del disegno di legge Boschi di riforma del quadro costituzionale che fissa una serie di obiettivi che sono intrinsecamente funzionali ad uno stato moderno e che sono in perfetta sintonia con tutte quelle riforme strutturali che l'Europa ci chiede il titolo parla di disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario principio che in sé rallenta l'iter legis del nostro Parlamento il cui superamento credo sia in sé un qualcosa di estremamente positivo la riduzione del numero dei parlamentari il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni sono credo tutti aspetti che non possono che trovare la convergenza di tutti i gruppi politici si parla poi di soppressione del CNEL che è un organo non costituzionale ma di rilievo costituzionale della cui utilità nel corso di tutti questi anni è stato ed è lecito dubitare e poi in generale la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione questo per segnalare che il disegno di legge Boschi già solo da un punto di vista di merito politico ha in sé aspetti di indubbio pregio il testo della mozione però aveva un'impostazione parzialmente difforme da quella dell'intervento che mi ha preceduto poiché è una mozione che si incardina essenzialmente ed esclusivamente sulla inopportunità di affidare ad un'opera di revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138 della nostra carta fondamentale una ampia revisione della Costituzione che involga grande parte dell'articolato della seconda parte della Costituzione ed è su questo che vorrei riflettere perché è vero che il disegno di legge Boschi tocca moltissimi articoli della seconda parte della Costituzione ma è altresì vero che la nostra carta costituzionale è strutturata in maniera tale da avere una prima parte che connota profondamente il nostro sistema costituzionale e una seconda parte che è relativa all'organizzazione della Repubblica la quale è ampiamente modificabile con gli strumenti previsti dalla stessa Costituzione addirittura si dice che solo i primi 12 articoli della nostra Costituzione rappresentano i principi massimi rispetto ai quali un intervento emendativo si porrebbe come rivoluzionario extra ordinem cioè atto a sovvertire il sistema istituzionale e costituzionale nel quale viviamo e lo stesso qualora si andasse ad incidere sui rapporti delineati dalla prima parte della Costituzione ma la seconda parte della Costituzione quella a cui fanno riferimento gli articoli richiamati nel testo della mozione quelli su cui va a incidere il disegno di legge Boschi con la sola eccezione dell'articolo 48 che è ancora inserito nella prima parte ma è strutturalmente funzionalmente collegato alla seconda parte della carta costituzionale va a toccare l'organizzazione della Repubblica non si capisce per quale ragione si debba pensare che un nuovo potere costituente debba essere esercitato rispetto a questa riforma costituzionale del resto abbiamo un meccanismo complesso un meccanismo che prevede quattro votazioni tra Camera e Senato con almeno la maggioranza assoluta nella seconda votazione e con la possibilità del referendum confermativo affidato a 500.000 cittadini affidato a 5 consigli regionali a un quinto dei membri delle Camere come si può pensare che questo meccanismo rafforzato di riforma della Costituzione che va ancora una volta a sottolineare la rigidità della nostra carta costituzionale non sia sufficiente quando si va a riformare l'apparato istituzionale organizzativo della nostra Repubblica senza intaccare né la forma di Stato né la forma di Governo perché né la forma di Stato né la forma di Governo da questa riforma costituzionale verranno ad essere alterate e concludo richiamando già due precedenti ci sono state recentemente due referendum confermativi uno relativo alla legge costituzionale del 2001 che si è concluso favorevolmente uno successivamente che è stato però bocciato dal 61% degli elettori ad ogni buon conto quel che non si capisce rispetto a questa mozione è poi cosa dovrebbe impegnarsi a fare il Presidente della Giunta regionale perché si chiede al Presidente della Giunta regionale di impegnarsi per sollevare la questione di legittimità costituzionale della riforma al di là del fatto che non c'è Presidente le do due minuti in più fa la dichiarazione di voto va bene così il gruppo vi dia a con scusa al di là del fatto che non c'è un intervento diretto del Presidente della Giunta regionale in tal senso da un punto di vista giuridico istituzionale al di là del fatto che la questione di legittimità costituzionale verrebbe in questo modo ad essere sollevata così come è formulata letteralmente la mozione su un disegno di legge quindi su una riforma che è solo in fieri e che quindi non può neppure strutturalmente essere facciata di legittimità costituzionale attraverso gli istituti previsti dal nostro ordinamento credo che comunque sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista giuridico questa mozione non sia sostenibile e pertanto colgo l'occasione del mio intervento per rappresentare il voto contrario alla mozione di tutto il gruppo del Partito Democratico Grazie Presidente Vacelli Consigliere Bianchi Grazie Presidente colleghi noi vi votiamo a favore di questa mozione perché quello che è avvenuto in Parlamento è assolutamente uno scempio indicibile e inenarrabile si parla di quello che è avvenuto in Parlamento non ci dimentichiamo che nel 2013 è stato ci sono state elezioni al Parlamento e c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge elettorale ora se è vero che è avvenuto e pare che sia veramente avvenuto che c'è stata questa sentenza se una legge elettorale è incostituzionale si presuppone che anche gli eletti siano illegittimi mi sembra che sia questa la lettura allora un Parlamento eletto in modo illegittimo che va a modificare una carta costituzionale che è stata fatta con il sangue e il cuore dei nostri padri e è stata stracciata così da quattro barbari mentre che bevevano lo champagne fra l'altro rubato ai cittadini italiani ecco siamo all'opposizione di questa posizione state svendendo stanno svendendo le nostre istituzioni riducendo il dibattito parlamentare gli organi di garanzia con la motivazione della velocità perché bisogna essere rapidi nel determinare nel fare le leggi e voglio ricordare a tutti che quando c'è la volontà politica di operare le forme in questo paese nel breve tempo voglio dire in tre giorni abbiamo stato approvato dalla bocca d'utri in quindici giorni è stata approvata la riforma Fornero eppure c'erano ancora due camere giusto quindi non ci raccontiamo delle banalità perché ci sono stati 1.575 giorni per poter discutere la legge anticorruzione ragazzi ragazzi perché un po' complimento perché ci teniamo giovani e vogliamo proporre che queste cose non devono accadere in questo paese cioè Verdini ha contribuito a cambiare la carta costituzionale ci rendiamo conto punto interrogativo vogliamo a favore e naturalmente si assume la responsabilità dei giudizi che esprime sulle persone invito tutti a essere pacati nei giudizi a prescindere da quelli che abbiamo è un consenso questo diverso credo da una tribuna elettorale sui ragazzi la ringraziamo Presidente Borghi effettivamente il consigliere Bianchi ha usato un'espressione forte per dire la parola Verdini su cui anch'io ho avuto un attimo un sussulto ecco io direi per cui insomma consigliere sono cose che non si fanno insomma io direi una cosa nel dichiarare ovviamente così con gran sorpresa il favore del gruppo Lega Nord il voto a favore su questa su questa mozione io posso capire il discorso in punta di diritto del del resto insomma è sua competenza precipua del consigliere Bugliani sul fatto di ma non ci sono gli strumenti per poter dire e però in realtà dovrebbero esserci dovrebbero esserci perché io penso che la difesa della Costituzione vada molto oltre il semplice punto di diritto la difesa della Costituzione dovrebbe essere un valore fondamentale perché non è detto che non si debba cambiare la Costituzione ci sono tante cose nella Costituzione che non piacciono nemmeno a me però uno stravolgimento di questo tipo fatto con queste modalità non dovrebbe essere una cosa che ci lascia indifferenti perché se la cosa la fa la nostra parte politica tendiamo a pensare che sia giusta a prescindere ma questo deve valere per le leggi io sono il primo a dire che chi governa ha diritto poi dopo di fare delle leggi che gli altri possono considerare pessime e poi dopo si vedrà se sono buone o sono cattive e d'altra parte la responsabilità di chi governa è quella ma le regole si fanno insieme le regole si fanno insieme e quindi la Costituzione cambiata a botte di maggioranza già non dovrebbe esserci cambiate a botte di maggioranza di volta gabbana non è il sistema giusto andare a prendere appunto i voti dell'innominabile piuttosto che persone transfughi usciti da una parte dall'altra non si fa non dovrebbe essere quello che conduce poi a decisioni corrette per cosa? appunto per fare presto ogni volta che c'è il fate presto in Italia c'è stato un disastro il fate presto quello più grosso e cubitale ci ha portato monti e ci stiamo leccando le ferite ancora adesso adesso dobbiamo far presto per far presto che cosa? per la Costituzione per il Senato noi andiamo male perché c'è il Senato ma non diciamo sciocchezze qui c'è un disegno di c'è un intenzione di ridisegnare lo Stato in modo centralista dirigista che incenerisce le autorità locali e noi cosa facciamo? stiamo fermi facciamo fare perché ci sta simpatico perché protempore è uno dei nostri ma caspita ma abbiamo una nostra indipendenza di giudizio o no? oppure la disciplina di partito porta che in ogni caso va tutto bene noi stessi che eravamo lì a fare i girotondi intorno per la Costituzione non io ma persone del Partito Democratico vengono a fare i girotondi per difendere la Costituzione quando probabilmente in modo altrettanto errato la cambiava Berlusconi adesso invece dato che la cambiamo noi va tutto bene e caspita no la difesa della Costituzione va oltre il Partito Democratico va oltre la Lega Nord va oltre Renzi va oltre Salvini la difesa della Costituzione deve essere una cosa a cui noi teniamo e ripeto ha in sé gli strumenti per poterla cambiare come giustamente e dottamente ci ricordava Bugliani ma lo spirito certe volte va oltre la forma lo spirito di una carta che dovrebbe essere una carta di regole condivise nel momento stesso in cui è evidente che queste regole non sono condivise anche se in qualche maniera un po' patetica una maggioranza parlamentare momentanea si riesce a trovare non è quello lo spirito costituente dovrebbe essere che si cambiano gli articoli della Costituzione quando sono tutti d'accordo in certi casi ahimè anche quando sono tutti d'accordo si fanno schifezze vedi per esempio il pareggio di bilancio in Costituzione erano quasi tutti d'accordo e poi dopo in realtà si è rivelato un errore ma perché? perché anche lì si nascondeva il germe della fretta fate in fretta ad approvare il pareggio di bilancio in Costituzione perché così facendo vi risolviamo la questione dello spread non è così che ci si muove non ci si muove in disaccordo non ci si muove con la fretta ci si muove con l'accordo e con calma quando si parla di regole se no altrimenti vengono fuori dei mostri che impegneranno molto 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 più tempo a essere smontati invece che a essere costruiti grazie Presidente Baccelli Presidente scusi Presidente Presidente Baccelli grazie non diciamo interverrò in punta di diritto in quanto il Presidente Bugliani rimando assolutamente alle sue accurate e corrette valutazioni giuridiche però vorrei dire al Presidente Borghi di quanto diciamo la nostra posizione rispetto alla sensibilità nei confronti della Costituzione sia speculare come a voi forse appunto come ha espresso poco fa farà effetto come dire che il Partito Democratico io dico finalmente rispetto alla discussione del superamento del bicameralismo che non è di questi mesi che non è neanche soltanto di questi anni ma è di decenni riesce a trovare una soluzione che può essere nel merito contestata a noi fa effetto noi che abbiamo sempre difeso la Costituzione Repubblicana ma abbiamo sempre detto che non era immodificabile e questo è un modo assolutamente coerente con i nostri costituenti perché altrimenti oltre a diciamo redigere una Costituzione scritta una Costituzione rigida non avrebbero previsto l'articolo 138 che per l'appunto disciplina le modalità con cui revisionare la nostra Carta Costituzionale credo che sul punto il Presidente Bugliani sia stato chiaro non solo i limiti di questa revisione sono previsti dall'articolo 139 ma mi pare che diciamo tutta la dottrina tranne rarissime eccezioni sia concorda nel fatto che in casi come questo dove non venga modificata nel forma di Stato nel forma di Governo sia assolutamente attuabile e corretta voglio però dire più dal punto di vista politico che mi pare in questo Consiglio che si parli di incineritori che si parli di carta Costituzionale come dire talvolta la nostra identità sia più da comitato dei cittadini che da Consiglio regionale mi sembra ci sia un attiriggiamento di sfiducia nei confronti di tutte le istituzioni se è vero come è vero che quando parlavamo poco fa dell'incinitore di Scarlino non c'è alcun affidamento che i tecnici di vari enti abbiano fatto una valutazione tecnica corretta e che ci voglia una pressione politica in merito alla effettuazione o meno di una relazione specifica e se è vero come è vero che questi passaggi sono stati verificati e saranno ulteriormente verificati sulla costituzionalità del procedimento ci sono al Senato e alla Camera delle commissioni riposte alla verifica della costituzionalità dei disegni di leggi ordinari come quelli di costituzionali c'è un Presidente della Repubblica che farà le sue valutazioni c'è una Corte costituzionale che è demandata a questo ruolo concludo dicendo che io sarei invece molto ma molto più preoccupato che se invece di correttamente utilizzare la disciplina prevista dall'articolo 138 avessimo fatto e avessimo proceduto come abbiamo cercato di fare qualche anno fa lo ricordo pur essendo ancora un ragazzo nel 93 ma credo che la vicenda del 97 sotto il governo D'Alema sia nota a tutti quando si cercò di disciplinare una procedura di modifica della Costituzione tramite una legge costituzionale si costituì allora quella commissione bipartisan definita bicameralismo ecco io credo su queste modalità tipiche ci sia un rischio di mancato rispetto di quelle procedure disciplinate e previste dai nostri costituenti credo che abbiamo invece imboccato la strada giusta la strada maestra che è quella di utilizzare quelle procedure previste proprio dai nostri padri costituenti grazie grazie Presidente Baccelli Presidente Fattori sì grazie Presidente dunque è ovvio e non è che stiamo discutendo qua del merito della riforma costituzionale io tra l'altro sono tra coloro che diciamo sempre sostenuto possibile l'ipotesi di monocameralismo però diciamo monocameralismo serio a me pare che oggi siamo alla distruzione del bicameralismo ma con una seconda camera appunto il secondo livello in nome della lotta la casta si fa sì che la casta elega la casta questo è il risultato finale quindi diciamo l'unica cosa che si toglie è il diritto di voto dei cittadini e credo che questo sia un ragionamento molto diverso da quello da fare invece su una eventuale riforma che però necessita tempo che vada nella direzione per esempio invece del monocameralismo ma ripeto non è di questo che stiamo discutendo io credo che ci sia un problema più che in punta di diritto diciamo un problema politico cioè è più che evidente che dopo la corte costituzionale ha detto che la legge elettorale con cui l'attuale parlamento è eletto è una legge incostituzionale per motivi molto precisi che vanno dall'inconoscibilità dei candidati fino al fatto che non c'è appunto una effettiva capacità di rappresentare il popolo italiano all'interno dell'attuale parlamento è evidente che l'etica politica avrebbe voluto che questo parlamento elaborasse una legge elettorale nuova e poi si andasse a votare così non è stato e addirittura si va a mettere mano alla costituzione questo è un problema diciamo così appunto ripeto per così dire di etica politica e a maggior ragione si arriva al punto di cambiare la costituzione a colpi di maggioranza e la storia non è maestra di vita perché tutte le modifiche fatte alla costituzione in questi anni sono tutte state terribili sono state tutti interventi peggiorativi a partire dal famoso titolo quinto elaborato in gran fretta dal centro-sinistra in risposta per così dire alle spinte leghiste con i risultati che oggi conosciamo poi invece di aprire una discussione seria sullo Ius Soli se andate a introdurre lo Ius Sanguinis in questo caso diciamo per aprire alle richieste di AN per mettere di dare il voto ai figli degli emigrati italiani all'estero ultimo atto appunto il più folle anche lì in gran fretta lo ricordava Borghi la recente costituzionalizzazione del pareggio di bilancio con il risultato che oggi invece si dice andiamo in Europa a chiedere diciamo maggiore flessibilità dunque e tra l'altro badate che io scusate mi sto appunto diciamo estetico ma la lingua vuole la sua parte la costituzione italiana per esempio è scritta in una lingua bellissima andate a vedervi tutte queste riforme costituzionali degli ultimi anni sono anche scritte in una lingua terribile quasi illegibili che questo è perché ma perché lo dico non è soltanto un fatto estetico per far capire che diciamo così siamo di fronte a 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 diciamo delle oggettive trasformazioni peggiorative in ogni senso della carta costituzionale fatte senza il tempo necessario senza riflettere e ribadisco a mio parere in diciamo in violazione di quelli che dovrebbero essere i principi etico-politici della della comunità della nostra comunità questi diciamo sono i motivi per cui anche noi di sito scana a sinistra voteremo appunto a favore della mozione proposta dal gruppo della lei grazie non ci sono altri interventi quindi metto in votazione la mozione presentata numero 64 sulla incostituzionalità del disegno di legge costituzionale attualmente all'esame delle camere favorevoli contrari astenuti la mozione è respinta passiamo ora alla prossima mozione al numero 68 in merita la promozione in orario extrascolastico di corsi di educazione civica a cui possano partecipare docenti alunni e genitori a firma di Casucci Vescovi giustala consigliere Casucci prego questa mozione è diretta ad impegnare il presidente della regione toscana a valutare in accordo con i competenti organismi la possibilità di promuovere presso le scuole elementari e medie toscane anche in orario extrascolastico corsi di educazione civica che vedano il coinvolgimento di alunni genitori e docenti è evidente lo scopo di questa nostra mozione che è quello di rendere possibili e di favorire dei confronti partecipati sulle tematiche sempre più importanti ed urgenti della convivenza nel rispetto delle regole e del rispetto reciproco senza alcun intento demagogico crediamo infatti sia interesse generale al di là di ogni distinzione politica di ogni steccato ideologico di appartenenza che i nostri giovani riescano a crescere come uomini nella conoscenza e nell'osservanza della costituzione e delle leggi di questo Stato e nel rispetto degli altri e che essi siano affiancati in questo cammino di crescita personale come cittadini dalla concreta e continua partecipazione dei loro genitori e dei loro insegnanti del resto la recente riforma della buona scuola all'articolo primo comma settimo richiama espressamente la responsabilità della scuola nell'educare alla cultura e alla cura dei beni comuni personalmente condivido questa enunciazione di principio che auspico si traduca in fatti concreti come appunto la promozione di corsi di educazione civica presso le scuole toscane la scuola e le famiglie devono incoraggiare e sostenere gli adolescenti a sviluppare la loro personalità e il loro talento a farne emergere idee e proponimenti a trovare la loro migliore predisposizione nel futuro mercato del lavoro ma il percorso formativo degli adolescenti non può altresì prescindere dalla consapevolezza di creare dall'esigenza di creare in essi una consapevolezza piena e matura del loro status di cittadini che si connota e si concreta in diritti acquisiti ma soprattutto in regole da osservare la comunità è fatta di individui e di istituzioni il cui obiettivo è quello della pacifica convivenza degli individui entro il contesto più ampio di ciò che è sociale ossia di tutti e per tutti la promozione di corsi di educazione civica presso le scuole toscane potrebbe avere inoltre come conseguenza estremamente positiva quella di agevolare nella nostra regione la prevenzione dei fenomeni sempre più gravi e incresciosi del bullismo e della violenza giovanile in genere al di là degli episodi che saltano agli onori della cronaca spesso nazionale il bullismo che è violenza fisica e psicologica un fenomeno strisciante subdolo esteso ma spesso sotterraneo diffuso tra i banchi di scuola ma al più delle volte sottaciuto soprattutto da parte di chi ne è vittima vale la pena ricordare che chi subisce da giovani atti di bullismo può avere delle conseguenze che si protraggono fino all'età adulta il rischio è che una volta cresciuti quei bambini che abbiano avuto e siano stati purtroppo vittime di atti di violenza possano avere disturbi di ansia depressione attacchi di panico e addirittura pensieri suicidi ripeto lo scopo della nostra mozione è di rendere possibili e di favorire dei confronti partecipati sulle tematiche della convivenza e del rispetto reciproco e che molto importante appunto è la funzione di prevenire i fenomeni di bullismo e di violenza in genere grazie consigliere casucci consigliere giovannetti gloria scusa grazie presidente in merito a questa mozione ritengo che quando si prevedono degli impegni concreti deve essere indicata anche la copertura finanziaria che si intende utilizzare la legge 107 come citata anche in mozione all'articolo 1,7 dice infatti che le istituzioni scolastiche possono attivare queste tipologie di corsi nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili alla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nella stessa legge al comma 7 lettera d si fa ancora riferimento allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica proprio ad indicare che si tratta di un insegnamento trasversale che investe tutte le materie e tutto il percorso educativo dall'infanzia alle scuole secondarie che non può essere esaurito solo con qualche ora di corso a settimana l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole rappresenta uno dei principi fondamentali dell'insegnamento e la nostra scuola già interviene nella formazione di individui che possono acquistare capacità critiche e di valutazione dei fenomeni sociali quotidiani infatti proprio come recita la buona scuola l'educazione alla cittadinanza attiva investe ogni disciplina applicando i criteri del vivere civile all'attualità del momento sociale l'insegnante ogni giorno raccomanda la pratica diretta alle regole della convivenza civile a cominciare dalla partecipazione degli allievi alla gestione stessa delle attività scolastiche riguardo al coinvolgimento delle famiglie vorrei sottolineare come la famiglia sia il primissimo luogo educativo di ogni essere vivente e che sarebbe macronistico dare al cittadino autonomo di oggi un'istruzione e formazione guidata dall'esterno centrata solo sulla conoscenza di regole e processi della vita sociale e politica a cui dovrebbe poi uniformarsi in una società pluralista il cittadino finirebbe con l'effettuare un'interiorizzazione a critica di quanto viene insegnato in un corso mentre lo scopo del vivere è mettere i cittadini in una situazione di apprendimento riflessivo della decisione intorno alle cose pubbliche più che di corsi di educazione civica a mio parere i cittadini hanno bisogno di essere coinvolti in progetti di più ampio respiro offerti in sinergia fra enti locali fra istituti scolastici e associazioni locali di valore civico al centro di un progetto di educazione alla cittadinanza si trova soprattutto oggi l'assunzione del problema dell'appartenenza o meglio dell'appartenenza che sono molteplici pluralistiche e non esclusive preferiamo perciò parlare di progetti per la cittadinanza che in collaborazione con gli istituti scolastici intervengono su tematiche critiche come la questione della società plurietnica progetti che possono scardinare il pregiudizio del diverso e acquisire al contrario arricchimento interculturale tutto ciò quindi coinvolge non solo la scuola ma tutti gli organismi pubblici che dovranno interagire e creare i presupposti di una convivenza civile tra i popoli di diversa tradizione non basta recitare gli articoli della Costituzione è indispensabile invece poterli attualizzare nei nuovi contesti sociali in definitiva l'educazione e la cittadinanza non può essere considerata una disciplina dotata di un proprio e specifico codice concettuale al pari di altre come ad esempio la storia e la matematica per queste ragioni non condividiamo l'impostazione della mozione grazie grazie consigliera Giovannetti consigliere Sarti sì proprio il dubbio è questo ma perché fuori orario cioè voglio dire è talmente importante e nella mozione si declina l'importanza di tutto questo che deve essere nell'orario e giustamente ricordava Giovannetti che c'è in tutte le materie l'educazione civica anche senza una sua specificità di materia a sé stante anzi ogni occasione di insegnamento di materie specifiche è occasione per fare questa educazione educazione civica qui la si intende alla tolleranza lo ricorda anche dice le scuole diventino luoghi privilegiati di esercizio della tolleranza del rispetto dei diritti umani di pratica della democrazia e di apprendimento della diversità ma è la stessa lega che ha scritto la mozione prima quella sul padre e madre è la stessa lega che poi ha scritto quella dopo di cui parleremo perché qui si richiama alla tolleranza ai diritti umani alla democrazia all'apprendimento delle diversità non lo so adesso sconcertato da queste contraddizioni mi piacciono molto questi richiami per carità erano gli altri che non mi piacevano qualcuno poi mi pare si ha detto del bullismo quindi noi dovremmo fare educazione civica per prevenire il bullismo attenzione il bullismo ha tante origini per carità oltre al disagio sociale in generale ma viene anche alimentato dalle intolleranze che si manifestano sulle diversità allora richieste come quelle di chiusura ad aprire a una possibilità più vasta di padre e madre come è nella società del resto questo alimenta poi queste intolleranze negare la possibilità di parlare nelle scuole come ho sentito richiedere in altre occasioni di generi e di generi diversi della pluralità dei generi questo alimenta l'intolleranza allora noi ci dobbiamo rendere responsabili di quando insegniamo cose di preclusione di occlusione proprio alle differenze di quanto noi alimentiamo il bullismo un'ultima considerazione perché i genitori cioè la scuola ha un suo compito ha un compito preciso che è quello di fare un certo tipo di informazione ed educazione ai genitori rispetto a altro quindi questa idea che sempre si debba mettere quasi a controllare i genitori i metodi della scuola i genitori devono confrontarsi a prendere quello che viene fatto devono capire come è il figlio nella scuola che è diverso perché nessun genitore saprà mai bene come è il suo figlio se non lo chiede agli altri insomma questa idea invece di mettere questi genitori che entrano nella scuola che comandano che decidono con quali competenze quindi l'educazione civica è qualche cosa che è insita nell'insegnamento i genitori hanno altri ambiti di insegnamento e di educazione e la possibilità di incidere sul diciamo lotta al bullismo la dobbiamo fare soprattutto aprendosi come diceva nell'inizio di questa mozione alla democrazia alle diversità e alla ricchezza delle identità culturali quindi ovviamente voteremo no grazie presidente Sarti considera Montemagno grazie apro solo una parentesi e voglio rispondere un secondo a Sarti e dico che non è vero che i genitori non hanno nessun ruolo nell'educazione civica anche solo dando il buon esempio hanno un ruolo nell'educazione civica dei figli voglio però proporre di rinviare questo tema in commissione perché se non ho capito male ci sono dei difetti più di forma che di sostanza penso che sull'educazione civica sia un tema che possa andare bene a tutti e che penso che ne vada anche del buon senso dare degli indirizzi era un'educazione civica che a scuola esisteva la possiamo modificare in vari modi però magari portando in commissione la discussione anche trovando delle modifiche o magari riscrivendola insieme ecco io penso che se si può fare fare così chiedo il parere dei colleghi è suo diritto chiedere il rinvio in commissione visto che comunque è firmata dal suo gruppo credo che sia d'accordo Casucce Vescovi se gli altri poi dopo la commissione si esprimerà come come crede perfetto è una cosa in casa lega si rinvia in commissione quindi quindi ritengo di non dare la parola ai successivi in quanto sarà oggetto di successiva bene passiamo all'argomento successivo già citato dal collega Sarti iniziativa tutela della famiglia tradizionale la delibera numero 69 proponenti Vescovi Alberti Casucci Montemagni illustra la mozione la diamo per letta consiglieri la diamo per letta un due tre stella la diamo per letta quindi ci sono interventi prego consigliere Sarti no mi dispiace che non venga letta perché forse avrebbe fatto risonare nella stanza parole che andavano molto discusse ma nessuno è contro la famiglia per carità insomma è legittimo come dice nella mozione che nelle scuole si insegna a non discriminare i gay o altre minoranze quindi ovviamente tutti a favore della famiglia tutti a favore anche dei gay e delle minoranze perché siamo in una società di apertura e di civiltà ora addirittura istituire una festa per la famiglia naturale mi sembra un pochino azzardato sempre proprio per non creare queste barriere questi muri che poi fanno sentire esclusi gli esclusi insomma cerchiamo sempre di essere molto aperti alle realtà della vita per accettare tutti perché sentirsi accettati è già un modo per essere in salute mentale quindi per non trasformarsi in oppositori o in qualche cosa di peggio ecco a proposito di qualche cosa di peggio ora io per carità la famiglia credo che sia stato un cardine storico della formazione dei figli con tutti e quindi anche i suoi errori e le sue cose ecco ricordo che è nella famiglia che si attuano a volte i peggiori crimini come può essere che so il femminicidio o la o la la pedofilia insomma in qualche modo sappiamo benissimo che queste purtroppo realtà non è che appartengono a quelle minoranze esterne o a quel mondo che si vuole demonizzare ma purtroppo appartengono alla famiglia e quindi va difesa ovviamente la famiglia va aiutata va sostenuta ecco però una cosa è aiutare e sostenere e l'altra è inneggiare to cure così come va benissimo e non è proprio vero che va benissimo perché tante difficoltà noi troviamo proprio nella famiglia allora benissimo accogliere le differenze benissimo accogliere la famiglia nella sua storicità ma malissimo farne addirittura una festa della famiglia naturale che vorrebbe dire insomma su questo si può far festa su tutti gli altri no mi sembra veramente discriminatorio grazie consigliera Sarti consigliera Capirossi grazie presidente presume tutti avete letto la mozione una mozione non accettabile ricca di strumentazioni e di strutture colleghi della Lega non è in corso un tentativo di minare la famiglia istituzionale la famiglia voi la definite fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna come vi ha abbondantemente spiegato prima la collega Monni la famiglia è anzi deve essere il luogo dove un individuo cresce in armonia è il luogo dove la sera si torna volentieri a casa il famoso focolare il rifugio di ognuno di noi e quindi deve essere il luogo dove si riesce in armonia dove le contraddizioni vengono lasciate fuori e non importa chi la compone la famiglia è casa è il luogo dove un bambino cresce in armonia e dove viene messa a conoscenza con l'affetto e la pazienza e detta l'amore dei suoi cari degli insegnamenti che devono essere la base necessaria per diventare un individuo di questa società e di componenti della famiglia chiunque si siano questo devono fare nient'altro come è assolutamente eccessivo definire l'ufficio nazionale antidiscriminazione razziali come quell'ufficio che faccia propaganda omosessuale o che addirittura imponga un modello di società che prevede l'eliminazione delle naturali differenze tra i sessi Lunar non è nato per questo e Lunar non fa questo Lunar nella sua attività di studio ricerca assistenza ed informazione si ispira al principio di parità di trattamento al fine di evitare o compensare situazioni svantatele connessi ad episodi di discriminazione legati sia a differenza di razza che di origine etnica anche in un'ottima che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso questo questo non è difficile scoprirlo basta aprire il sito e guardare lo statuto inoltre ritengo che l'attività scolastica deve offrire una panoramia la più ampia ricca ed inclusiva possibile per gli alunni in merito sia a culture che a modelli di riferimento in modo che le ragazze e i ragazzi di domani siano in grado di effettuare le proprie scelte in piena libertà sia in termini culturali politici professionali di orientamento sessuale ognuno deve scegliere in libertà e per farlo deve avere gli insegnamenti a 360 gradi infine a proposito di modelli di riferimento ed apertura mentale invito i consigliari a prendere in considerazione le parole del Santo Padre Papa Francesco l'ha detto prima Monia e lo ripeto anch'io il Papa ha dichiarato di non essere nessuno per giudicare gli omosessuali perché Dio ci ha resi liberi Dio ci ha resi liberi e non lo siamo nessuno per giudicare gli altri l'ha detto anche il Papa il diverso non è dobbiamo imparare il diverso non è brutto il diverso è ricchezza inoltre nel 2013 il Papa dichiarò anche quello degli omosessuali insieme al tema dell'aborto e dei contraccettivi è un tema a cui secondo il portefice la Chiesa ha dato anche troppa importanza questo per ribadire come non si accettava l'idea secondo la quale il modello della famiglia tradizionale sarebbe messo sotto assedio e minacciato da una presunta propaganda omosessista l'ha detto anche il consigliere Sarti e lo ribadisco anch'io l'intervento precedente del collega Casucci che la scuola e le famiglie devono sostenere i adolescenti a far emergere la loro personalità e sulla diversità e la ricchezza della diversità culturale sembra proprio l'opposto della mozione presentata adesso quindi concludo dicendo che la mozione non è accettabile non è accettabile questo ingiustificato vittimismo dei sostenitori della famiglia tradizionale quando le vittime delle discriminazioni purtroppo e come ben sappiamo sono altre grazie consigliere Capirossi consigliere Sarti a che titolo mi scusi è già intervenuto e là non la fa il consigliere Fattori mettetevi d'accordo grazie prego consigliere Fattori grazie io in realtà proprio due parole e non ce l'avevamo coordinati con Paolo sul tema proprio della famiglia naturale permettetemi di dire che è una formula che sta entrando nel lessico politico come se avesse un senso ma questo senso non ce l'ha perché se c'è qualcosa che per antonomasia è culturale e non naturale è proprio il matrimonio e la famiglia che deriva dal matrimonio quindi stiamo parlando di eventi prettamente culturali poi noi siamo l'unica specie a avere ritualizzato a avere istituzionalizzato l'usanza mentre sappiamo che in natura la natura biologica i nuclei sociali si compongono in mille modi cioè che vanno dal branco diciamo fino alla colonia ma siccome qui si sta parlando diciamo di abitudini sessuali evidente che questo è il punto io vorrei ricordare che sempre in natura sono ampiamente diffusi comportamenti che diciamo così seguaci la cosiddetta famiglia naturale sicuramente catalogherebbero come contro natura dall'omosessualità alla bisessualità alla masturbazione e via dicendo quindi in sintesi in natura le forme sia di sessualità che di socialità hanno una straordinaria e ricchissima diciamo biodiversità io voglio dire anche per fortuna e per quanto riguarda l'omosessualità io considero abbastanza singolare che venga considerato innaturale un comportamento che invece appartiene a tutte le specie animali eccetto il riccio di mare però a meno che naturalmente non si consideri il riccio di mare l'unico portatore autentico del concetto di natura e questo diciamo sarebbe una considerazione un po' tirata io inviterei i consigli diciamo i sostenitori del concetto di famiglia naturale a cambiare formula e da oggi definirsi appunto sostenitori della famiglia culturale cosa che naturalmente è lecitissima però diciamo è altra cosa ed è altra discussione quindi permettetemi oggi ho fatto due richiami al tema del lessico ma siccome diceva il filosofo la lingua è espressione dell'essere io credo che sia un punto essenziale anche della politica immagino quindi che la dichiarazione di voto scusa la dichiarazione di voto naturalmente è contraria l'avevo capito dal riccio di mare consigliere Sarti si cancella sì consigliere Alberti per dichiarazione di voto sì per dichiarazione di voto grazie presidente per esprimere il voto a favore della mozione presentata dal gruppo Lega Nord noi siamo per la famiglia tradizionale noi non siamo per il genitore 1 il genitore 2 il nonno 1 il donno 2 lo zio 1 lo zio 2 il cugino 1 il cugino 2 noi siamo per il babbo mamma siamo per lo zio zia nonno nonna noi intendiamo con questa mozione intendiamo impegnare la giunta regionale a individuare in collaborazione con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una data per la celebrazione della festa della famiglia naturale fondata sull'unione fra uomo e donna promuovendone sia direttamente sia indirettamente attraverso scuole associazioni ed enti locali la valorizzazione dei principi culturali educativi e sociali noi intendiamo impegnare la giunta a introdurre il fattore famiglia quale criterio di sostegno alle politiche attive e passive al reddito delle famiglie toscane grazie consigliere alberti grazie consigliere spinelli per l'iterrazione di voto sì grazie presidente il mio intervento per esprimere il voto contrario è quello del partito democratico a questa mozione innanzitutto partendo dal testo della mozione ritengo che non si declinino i servizi sociali sulla base di categorie ma partendo dai bisogni dei cittadini e dando risposta ad essi l'obiettivo è questo è lavorare politiche che sostengono le persone riducendo le disuguaglianze e dando l'opportunità di una migliore qualità della vita i minori tutti in questo devono stare al centro francamente non vedo il motivo per il quale la regione toscana debba creare una festa della famiglia naturale che peraltro preferisco definire tradizionale o culturale come bene ha detto il consigliere Fattori prima di me non vedo minacce all'orizzonte francamente non vedo bambini derisi in quanto figli di un padre e di una madre nei matrimoni tra un uomo e una donna celebrati di nascosto in realtà ancora la nostra cultura come dire fa matrimoni in grande pompa magna e con grande spese a cui le famiglie poi si si sottopongono in realtà e questi sono assolutamente riconosciuti dal codice civile non c'è nessuna minaccia rispetto all'istituto del matrimonio la cronaca invece ed è sotto gli occhi di tutti ci racconta frequentemente di ragazzi maltrattati umiliati per i propri orientamenti sessuali la mozione peraltro distorce il valore e la qualità culturale di progetti attivati nelle scuole tesi a favorire una cultura del rispetto e ad offrire strumenti per una cittadinanza consapevole solidale ed aperta alle differenze peraltro io credo che dobbiamo avere anche un pochino più di fiducia sulla capacità dei ragazzi e anche dei bambini di confrontarsi con la sessualità ma nello stesso tempo un paese maturo non può commettere l'errore di pensare che tutti vivono la stessa realtà e nascondersi il fatto che la violenza e l'omofobia per lo più si annidano proprio tra le mura di casa che spesso non sono lo straordinario focolare domestico del nostro immaginario collettivo per questo il ruolo della scuola diviene fondamentale e complementare a quello genitoriale la mozione teme e criminalizza alcuni libri mi viene da pensare come si legge in Fahrenheit 451 perché i libri rivelano i fori sulla faccia della vita la gente comoda vuole soltanto facce di luna piena di scera facce senza fori senza peli inespressive la realtà gentili colleghi è ben più complessa sfaccettata e colorata si continua inoltre a far finta di non sapere che l'accesso alle informazioni e dalla stessa pornografia è facile quasi privo di filtri ma a fronte di questo gli strumenti per costruire una sessualità consapevole e sicura sono ben poco io vi invito a confrontarvi con tanti adolescenti che hanno come dire un libero accesso a tutto e che non hanno assolutamente idea di come sia fatto il loro corpo ed è una come dire una discenda quotidiana con cui mi confrontavo durante lo svolgimento del mio lavoro il nostro peraltro è un paese ancora troppo pieno di discriminazioni e pregiudizi che ha la necessità di fare molti passi avanti nel riconoscimento dei diritti civili nell'interesse degli omosessuali ma anche degli eterosessuali poiché fino a prova contraria il matrimonio è per tutti una scelta ebbene che proceda a livello parlamentare la discussione sulla legge e sui diritti civili nel rispetto della libertà di pensiero di tutti ma forse dovremmo fare lo sforzo di non parlare più di omosessuali ed eterosessuali e pensare che esistono soltanto persone che si innamorano di altre persone ognuno di noi è quel che è e questo è che è naturale e non da oggi ma da sempre prima anche di Babilonia già citata anche nella Bibbia l'allargamento del riconoscimento dei diritti è l'unica vera garanzia per tutti anche per la famiglia tradizionale grazie grazie consigliere Spinelli consigliere Quartini dichiarazione di voto sì grazie presidente ragazzi colleghi diciamo io avevo chiesto la parola anche per una dichiarazione di voto precedente sull'educazione civica che condividevamo proprio per l'aspetto come dire dell'educazione al civismo e quindi un'idea di una scuola che si rendeva partecipe in orario extrascolastico con modalità che volevamo e che dovevamo anche magari valutare meglio ci mancherebbe altro comunque era come dire incoraggiante rispetto alla crescita di consapevolezza di un empowerment collettivo e di comunità rispetto ai diritti civili quindi in questo senso la sentivo come una buona mozione credo sia in contraddizione con questa eh mentre quella di prima laicamente e quindi in maniera estremamente puntuale cercava di rendere i cittadini più consapevoli anche più esigibili dei propri diritti attraverso l'educazione civica dal mio punto di vista cittadini che l'educazione fisica soprattutto gli adulti non l'hanno fatta a scuola i programmi scolastici sono stati carenti da questo punto di vista nell'insegnamento eh in questo senso io stesso che ho fatto il liceo classico poca roba l'educazione civica quindi questo aspetto di eh implementarla è una cosa buona e spero che nella commissione poi si riprenda eh in mano questa eh quest'idea viceversa credo che eh al netto delle cinque conadi dei ricci di mare eh sia discriminante sia discriminante in sé proprio perché introduce un orientamento eh come dire di non valutazione eh dei diritti civili di tutti eh quindi in questo senso con eh tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle eh dichiaro il voto eh negativo Presidente Borghi portavoce dell'opposizione eh grazie scusate in questo momento più che come portavoce dell'opposizione facente funzione di eh di capogruppo eh in vabbè comunque il ruolo uno se lo può era solo per chiedere aiuto visto che aveva già fatto l'iterazione di voto ci aiutiamo prego Presidente Borghi grazie no scusate perdonatemi ma ma è una mattinata un po' complicata ecco per per me non c'è un sacco di gente che arriva ora ehm no eh la dichiarazione di voto a favore del del della mozione ehm perché io sinceramente penso che eh occorra occorra un una parola un segno o qualcosa del genere a difesa di un'istituzione che ultimamente è sotto attacco senza colpa sua non è che in questo momento la famiglia tradizionale abbia fatto qualcosa di male invece sembra che sia così in certi casi la violenza del 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 la foga la violenza la l'animosità con cui chi pretende a suo dire ha ragione eh la lo smantellamento di questa differenza tra famiglia tradizionale e famiglia moderna non so chiamiamola così eh nuova che non abbia sesso che non abbia confini che non abbia limiti e così via comporta una criminalizzazione di fatto di quello che non è eh allineato a questo tipo di eh di ideologia e mi spiace ma non non è così non è così perché la famiglia tradizionale non ha nessuna colpa secondo me la famiglia tradizionale ha grandi meriti e qui adesso si ha il paradosso che la gente si straccia le vesti per la difesa degli animali per la difesa del e in questo momento invece si sta assistendo alla morte e all'attacco della famiglia tradizionale nella massima indifferenza e anzi come abbiamo sentito nell'intervento del consigliere Quartini considerandola discriminatoria cioè io provo a difendere la famiglia tradizionale e sono uno che discrimina cioè come dire che uno arriva e difende i delfini è un criminale perché discrimina i tonni ma attenzione non è così la famiglia tradizionale è un valore non significa che io non debba affiancarle altre forme di unione di convivazione siamo un paese vi va a dia libero per carità però un paese che non considera particolarmente meritevole di tutela la famiglia tradizionale non sta capendo dove si sta andando dal punto di vista sociale c'è del buono nella famiglia tradizionale c'è del buono e come tale se noi lasciamo che venga non solo fatta sparire annaquata in mezzo a tutte le altre unioni ma che venga addirittura considerato discriminatorio difenderla e scusate ma qui veramente io non capisco quale sia il punto d'arrivo di questa di questa evoluzione della società non è così che si fa non è così che si difendono i diritti non è criminalizzando i diritti degli altri il diritto della tradizione il diritto della natura che altre cose parimenti meritevoli di tutela ottengono la loro miglior affermazione la famiglia tradizionale è una cosa che tutti dovremmo avere a cuore almeno provarci a levare una voce ogni tanto per dire è importante penso che sia dovere di ciascuno non abbiamo nessun intento provocatorio o cose di questo tipo ci interessa far vedere che ci abbiamo provato non so se ci riusciremo perché qua a quanto pare così come per la costituzione ogni tanto si alzano tutti e dice vabbè distruggiamo tutto appiattiamo non so se ci riusciremo ma almeno possiamo dire che ci abbiamo provato grazie grazie consigliere borghi non ci sono altri interventi altri dichiarazioni di voto metto in votazione la mozione numero 69 iniziativa tutela della famiglia tradizionale favorevoli contrari astenuti la mozione è respinta mozione numero 63 in merito al funzionamento della composizione della consulta per la montagna all'istituzione di un osservatorio regionale della montagna presentatore Alberti Vescovi Casucci Montemagni Salvini illustra il consigliere Alberti prego grazie presidente do un paio di dati statistici in primis la Toscana ha il 78 virgola 6 per cento del territorio che ricade sotto la montagna e in esso vive il 15 per cento per l'esattezza il 15 virgola 2 per cento di cittadini quindi il 15 per cento dei toscani vive in montagna e il 78 per cento del territorio toscano sta in montagna quest'estate io ho avuto modo di parlare con molti operatori commerciali con molti imprenditori che hanno aziende imprese in comuni che ricadono nella montagna ho parlato anche con tanti sindaci di tanti comuni che lamentano grandi difficoltà che lamentano la distanza anche di questa istituzione nei confronti delle loro istanze ebbene io voglio ricordare che il 14 gennaio 2002 la regione toscana ha istituito con delibera 37 una consulta regionale della montagna questa consulta avrebbe dovuto esprimersi sulle questioni e problemi e le istanze dei cittadini delle imprese delle istituzioni ebbene oltretutto con legge 68 barra 2011 all'articolo 88 oltretutto veniva regolamentata la promozione di stipule di fatti per la montagna ad oggi non abbiamo risultanza di quanto è stato fatto fino ad oggi la nostra mozione impegna il presidente e la giunta regionale ad aggiornare la composizione della consulta per la montagna prevedendo la creazione di uno specifico osservatorio sulla montagna che a costi invariati incrociando le informazioni e i dati dai competenti uffici della regione incrociando le informazioni e i dati con quelli in possesso degli altri enti a livello territoriale possa diventare uno strumento di supporto tecnico e di monitoraggio delle politiche per la montagna per la suddetta consulta della regione stessa impegniamo a modificare il funzionamento della consulta per la montagna al fine di dare maggiore continuità ai lavori della stessa e fare in modo che essa possa veramente diventare uno strumento di sostegno all'azione politica e amministrativa regionale al fine di realizzare il superamento degli infiniti disagi da parte dei comuni montani si impegna il presidente della giunta regionale ad accordarsi con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale per far sì che la consulta sia udita almeno una volta all'anno dal consiglio regionale per fare il punto sulle politiche per la montagna e dare modo al consiglio regionale di assumere gli atti conseguenti grazie grazie consigliere Alberti parliamo di montagna quindi questa volta non scomoderemo pesci o d'altri prego presidente si ci sono dei notevoli presidi di attività ittica anche nelle nostre montagne di cui potrei parlare per ore ma ve lo risparmio il no allora abbiamo letto con attenzione la mozione la farò breve e integro fra l'altro intervento dichiarazione di voto del gruppo al netto di qualche perplessità sulle premesse dichiaro subito che il gruppo PD voterà a favore della mozione essendoci accordo su due punti chiave il primo è che nel nostro territorio regionale riusciremo a portare territori montani il contributo necessario se lo isoliamo dal contesto per poi rinserirlo in tutti i nostri strumenti dopo averlo isolato e messo a fuoco e che quindi siano necessari strumenti per pensare politiche specifiche per la montagna che poi dopo vadano a nuovamente diluirsi nelle politiche per lo sviluppo per le infrastrutture per il sociale per l'economia eccetera eccetera quindi questa è la prima cosa su cui conveniamo la seconda su cui conveniamo è che questo strumento ideato lodevolmente alla regione fino ad ora non ha dato i risultati che ci aspettavamo devo dire nella esperienza che conosco più per difficoltà di accordo fra gli enti locali che non per cattiva volontà della regione di voler addivenire a una soluzione tant'è che poi la regione al netto dei percorsi non di grande successo e dei fatti della montagna che non ci sono stati comunque le politiche per la montagna le ha fatte e continuerà a fare è proprio per queste due fondamentali ragioni che votiamo a favore con qualche precisazione che spero possa essere al centro del lavoro che faremo per andare a costituire poi questi strumenti la prima precisazione è che appunto nella revisione della consulta dovremo anche andare a imparare gli errori del passato e capire quali sono diciamo le rappresentanze giuste per cercare di evitare e che questo valga anche per l'osservatorio selezioniamo adeguatamente i membri non possiamo fare come per l'osservatorio della città metropolitana che è stata una selezione naturale ormai oggi siamo al darwinismo diffuso in aula è stata una selezione naturale perché a occhio e croce i territori montani ce l'hanno praticamente tutte le province della Toscana quindi rischieremo di fare il consiglio regionale bis e attuare le cose efficaci e cercare di farlo con spirito di sguardo al futuro lasciandoci alle spalle ciò che è avvenuto e cercando di mettere le punti fermi per portare a casa quello che ci serve quindi ribadisco il voto favorevole del gruppo PD grazie consigliere Baldi presidente Giannarelli sì grazie presidente a nome del movimento 5 stelle esprimiamo voto favorevole a questa proposta perché dalla miata ai monti di San Marcello Pistoiese dalla Garfagnana alla Lunigiana tutti ci chiedono di avere voce e di non essere lasciati soli in particolare ci chiedono una netta inversione di tendenza ci chiedono che i presidi ospedalieri rimangano aperti ci chiedono che le poste rimangano aperte ci chiedono scuole laddove non ci sono dove i nostri alunni sono costretti a fare lezioni nei container e ci chiedono soprattutto di superare la sindrome della città metropolitana quella sindrome che fa sì che si succhino tutti le poche risorse rimaste a favore di Firenze e a sfavore di tutti i territori periferici in particolare quelli montani quindi voteremo a favore Grazie Presidente Giannarelli Consiglio Alberti Grazie Presidente per dichiarazione di voto il nostro gruppo quindi voterà a favore della mozione presentata esprimo soddisfazione per l'esito che avrà questa mozione questa mozione sarà approvata io ringrazio tutti i consiglieri che appunto esprimeranno il parere favorevole e do la disponibilità da parte mia e da parte di tutto il gruppo per far sì che questo osservatorio sulla montagna sarà istituito funzioni veramente a differenza della consulta che ha dato risultati negativi Grazie Grazie Presidente Fattori Grazie Presidente anche noi appunto voteremo a favore molto opportuna l'istituzione di un osservatorio sulla montagna aggiungo soltanto alle cose dette nel dibattito che condividiamo che è appunto il tema della Toscana più velocità che ha visto l'istituzione diciamo anche lì opportuna di una commissione speciale sui temi della costa dovrebbe essere appunto affiancata da iniziative anche per altre zone che stanno andando ad altra velocità e quella della montagna è esattamente la questione dunque tutto ciò che possiamo fare per andare in questa direzione quindi in una Toscana policentrica quindi la capacità anche di distribuire attenzione interventi in zone diverse giustamente veniva ricordato il grande accentramento di risorse in questi anni e infrastrutture o almeno di progetti infrastrutturali nell'area urbana fiorentina ecco credo che andare in questa direzione sia il modo per equilibrare i nostri interventi e la nostra attenzione nella direzione ripeto di una Toscana policentrica voteremo dunque a favore grazie non ci sono altri interventi altri direzzi di voti metto in votazione quindi la mozione numero 63 in merito al funzionamento e la composizione della consulta per la montagna all'istituzione di un osservatorio regionale della montagna favorevoli contro prova contrari astenuti la mozione è approvata mozione numero 71 in merito alla necessità di riformare la legge sulla prescrizione faccio presente che è pervenuta questa presidenza un emendamento che abbiamo mandato alla fotocopiare per essere distribuito a firma dei presentatori quindi intanto presentiamo se ritenete la mozione poi daremo lettura dell'emendamento presentatore più la consigliera Montemagni firmatari consigliere Bianchi prego grazie presidente Marco Piagentini superstite l'uomo definito anche padre coraggio ha perso nella strage la moglie e due figli uccisi dalle fiamme mentre erano dentro la propria casa nelle vicinanze della stazione urlavo ma nessuno mi sentiva non mi sentivano perché avevo la gola bruciata ha raccontato Piagentini il quale rimase in fin di vita per diversi mesi a causa delle ossioni riportate a seguito dell'esplosione del gas gpl si è salvato soltanto dopo aver subito 40 operazioni in anestesia totale dopo 5 mesi a novembre 2009 Marco Piagentini seppe della morte della moglie di due figli incontrò il nuovo figlio Leonardo quasi non si riconobbero a causa delle ferite che avevano entrambi cristiano Falorni avrebbe voluto raccontare la sofferenza fisica e psicologica sua e degli altri suoi fratelli gli aiutati dai vigili del fuoco dai poliziotti e dai volontari scavarono incessantemente senza pause sasso per sasso fra le macerie nelle due settimane successive al disastro sotto il sole di luglio a ricerca di un corpo che non venne mai trovato Marco Germani e Isabella Baldi i due abitavano al primo piano di una palazzina via Ponchielli ci svegliò il ballore del fuoco della casa che avevamo di fronte io e mia molle scappammo dopo che si verificò una prima esplosione io ero scalso e avevo solo gli slip per questo torna su a vestirmi una volta in strada fu colpito da una nuova esplosione tornai in casa per mettermi sotto la doccia e rimasi alcuni minuti chiuso in bagno sono saltato dalla finestra quando ho sentito i miei genitori che erano in cortile che dava sulla ferrovia alle tre del mattino ci arrivò una telefonata era mia figlia Emanuela Emanuela disse a mia moglie c'è stato un incidente ma non preoccupare non mi sono fatta niente dopo 42 giorni di agonia è morta Emanuela aveva 21 anni sua madre Daniela Rombi è l'anima dell'associazione Il mondo che vorrei che raggruppa i familiari delle vittime quando arrivamo all'ospedale il primario ci disse che Emanuela stava malissimo mia moglie svenne e potrei continuare a elencare esperienze e eventi di quel tragico 29 giugno dove persero la vita 32 persone bambini ragazze uomini e donne che riposavano nelle proprie abitazioni pensando di essere nel posto più sicuro della propria vita è stato un incidente in un ambiente di lavoro la ferrovia trasformatosi in un disastro ferroviario che ha provocato una strage con 32 vittime si è trattato di un disastro annunciato previsto e prevedibile per incidenti analoghi avvenuti precedentemente e per una politica di abbandono della sicurezza perpetrata in questi anni perché? perché il semplice motivo che profitto mercato competitività non si devono subordinare alla sicurezza alla salute e quindi al diritto alla vita come bene inalenabile irriducibile e inviolabile in questa mozione scusate ho dovuto presentare un attimino perché è bene è bene non perdere la memoria di questi eventi in questo paese troppo spesso ci dimentichiamo queste cose c'è il rischio che il reato di incendio colposo possa cadere in prescrizione come già avvenuto per reati sulla sicurezza inerenti al decreto legislativo 81 del 2008 ritenendo inaccettabile e disumana la prescrizione di incendio colposo e lesioni grave e gravissime si pretende che sia trovata una soluzione all'immane tragedia del 29 giugno del 2009 un breve ricordo di quello che è l'istituto della prescrizione che è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici determinati dal trascorrere del tempo nel 1929 nella relazione a un progetto definitivo per un nuovo codice penale viene inserito come eccezione al sistema e viene inserita in Italia nel 1930 con il codice Rocco addirittura volevo leggervi la razio dell'applicazione relativamente al diritto penale e cioè la ragione per cui è applicata che a distanza di molto tempo dal fatto avvenuto viene meno sia l'interesse dello Stato a fornire la relativa condotta sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo e vado a concludere ricordo che proprio di questi giorni l'organizzazione per le Nazioni Unite gran parte delle indicazioni in questa convenzione indica una serie di problemi aperti del nostro paese su quali occorre ancora lavorare uno degli aspetti critici rilevati dal rapporto riguarda il nodo insoluto della prescrizione su cui il documento riconosce gli effetti positivi dell'innalzamento delle pene per i reati di corruzione ma sottolinea ancora una volta che la lunghezza dei procedimenti giudiziari è un elemento di preoccupazione e quindi si urge la necessità di una riforma di questo istituto oggetto di eterno scontro nella maggioranza che sostiene il governo Renzi bene questa nostra mozione perché la giunta regionale si impegni in sedi di conferenza Stato-Regioni perché venga una riforma ma vera di quello che è tutto l'apparato giuridico e giudiziario del nostro paese quindi evitiamo che questa strage vada senza colpevoli e quindi contribuiamo perché la prescrizione e la giustizia in questo paese migliori veramente e a questo punto abbia una svolta veramente sostanziale come del resto altri istituti io parlo dell'istituto della prostizione vitalizio l'immunità parlamentare l'articolo 67 il vincolo di mandato sono tutti istituzioni che sono state fondate con i nostri pari costituenti ma che avevano una sua ragione di essere a quel tempo oggi questi istituti sono stati stravolti utilizzati per le più becere azioni di malaffare e di corruzione morale in questo paese quindi una forte spinta alla giunta perché si adoperi in questo senso grazie grazie consigliere Bianchi consigliere Montemagno sì grazie io accolgo con favore questa mozione dei colleghi del 5 Stelle l'accolgo con favore perché non so quanti di voi sanno io abito sulla collina che da proprio sul viareggio quella sera del 29 di giugno del 2009 da casa mia vedevo le fiamme vedevo le fiamme e contemporaneamente vedevo in televisione quello che stava succedendo quella sera sono morte 32 persone sono morte dei bambini sono delle famiglie che ne sono uscite dilaniate distrutte c'è un padre con un figlio superstite solo e ha perso due figli e la moglie non possiamo dire a queste persone che la giustizia non arriva in tempo non arriva mai e si rischia la prescrizione dobbiamo dare una dignità sia alle persone che non ci sono più sia alle persone che sono rimaste a piangere i loro cari e a piangerli guardate bene per un incidente che non è colpa loro non erano persone come a volte succede che muoiono per una malattia allora non è colpa di nessuno ci sono delle persone che muoiono in un incidente d'auto e lì magari qualche colpevole ci può anche essere queste persone sono morte in una strage in una strage noi abbiamo presentato un emendamento a quella che è la mozione dei colleghi del 5 Stelle perché riteniamo per quanto giusta sia una mozione che dobbiamo anche andare ad agire sui tempi della giustizia italiana tempi che sono tempi troppo lunghi sono passati troppi anni sono passati sei anni dalla strage io penso che questa mozione sia accoglibile da tutti i punti di vista credo anche che ci sia forte sensibilità sul tema penso all'ultima manifestazione del 29 giugno di questo anno che era presente anche il consigliere Barcelli collega del PD quindi io penso che sia un tema trasversale e credo che la regione debba fare la sua parte perché queste famiglie giustamente aspettano delle risposte ma le risposte non sono la prescrizione il tempo passa ma il dolore no il dolore per la perdita di un parente caro di una perdita fatta in questa maniera di persone che hanno sofferto anche 40 giorni prima di lasciare questo mondo non può essere giustificata con una prescrizione l'emendamento prevede infatti che vengano aggiunti tanto se lo avete una riforma del sistema giudiziario quindi che la regione faccia leva anche su una riforma del sistema giudiziario che abbia tra le proprie finalità anche la riduzione dei tempi stessi della giustizia quanto dobbiamo ancora aspettare perché queste persone ritrovino la pace perché i loro parenti ritrovino la pace io conosco alcuni di loro e sono persone che non si daranno mai per vinte io li stimo tantissimo per il lavoro che fanno per quello che fanno tutti i giorni per quanto ancora ci credono ecco allora siccome loro ci credono dobbiamo crederci anche noi e crederci insieme a loro e per questo ovviamente dichiaro il voto della Lega Nord favorevole a questa mozione e spero che questo voto sia diffuso a tutti i consiglieri di tutte le parti politiche grazie consigliera Montemagni avrei dato lettura dell'emendamento ma visto che l'ho introdotto ne do brevemente lettura così può essere utile ai consiglieri nel proseguo l'emendamento proposto a firma di Elisa Montemagni Gabriele Bianchi Giacomo Giannarelli Enrico Cantone Andrea Quartini così recita dal primo capoverso alla seconda pagina eliminare le parole troppo brevi nel secondo capoverso della seconda pagina inserire fra le parole ritenuta indispensabile le parole una modifica delle norme inseguire il seguente inciso anche nell'emora di una profonda riforma del sistema giudiziario che abbia fra le proprie finalità anche una drastica riduzione dei tempi della giustizia ultima modifica il primo paragrafo della parte dispositiva relativo al sostegno delle iniziative nazionali in materia sostituita dal presente le iniziative nazionali volte ad arrivare al più presto anche nelle mora di una profonda riforma del sistema giudiziario che abbia fra le proprie finalità anche una drastica riduzione dei tempi della giustizia ad una riforma dei tempi di prescrizione per il reato di strage e di disastro sia quest'ultimo di natura dolosa o colposa questo l'emendamento che naturalmente come ormai avrete capito andrà messo in votazione prima della mozione Presidente Baccelli Grazie ovviamente diciamo rappresento anche come gruppo del PD la nostra estrema sensibilità rispetto a questa a questa vicenda che ha connotato la stessa identità della comunità di Viareggio ma direi di tutta la Versilia e probabilmente dell'intera regione toscana quando testimoniato al processo di cui si tratta in questa mozione ebbe a dire forse con qualche diciamo brutalità che in effetti questa dei 32 vittime della strage di Viareggio è stata per l'appunto la strage dimensionalmente più importante che si è avvenuta sul territorio toscano dalle vicende della seconda guerra mondiale ovviamente specificando che le cause erano diverse non si tratta di strage nazifasciste in questo caso ma certamente e per quello fui duramente redarguito dai difensori del degli imputati anche sullo stesso termine strage come uno termine improprio però insomma lo voglio ripetere in questo consiglio regionale perché è un'affermazione che faccio in scienza e coscienza e me ne assumo ovviamente la responsabilità detto questo ritengo assolutamente opportuna l'approvazione di questa mozione voglio però ricordare in positivo che la regione toscana e non tutti gli enti potenzialmente coinvolti si è costituita in giudizio quindi è a fianco delle vittime della strage di Viareggio che è stata una scelta che di questi tempi di scarsità di risorse finanziarie non indolore a fianco per la verità alla provincia di Lucca allora da me è presieduta perché abbiamo rifiutato provincia e regione gli indennizi delle società di assicurazione volte ad escluderci ad escludere la nostra costituzione di parte civile cosa che è stata fatta anche dai familiari delle vittime per la verità non se non parzialmente dal comune di Viareggio allora guidato da un'altra amministrazione rispetto all'attuale e non dal governo nazionale allora guidato da Enrico Letta che decise quindi di accogliere le proposte delle assicurazioni di non costituirsi parte civile detto questo siamo consapevoli della non banalità di trovare una soluzione quindi di non creare eccessive aspettative rispetto diciamo al procedimento e al meccanismo della prescrizione quindi diciamo i giuristici dovranno lavorare a fondo perché ovviamente essendo una modifica diciamo peggiorativa per gli imputati non è banale trovare una soluzione tecnica ma condividiamo assolutamente lo spirito e devo dire mi pare ulteriormente migliorata questa mozione dall'emendamento in quanto individua e diciamo la causa rispetto all'effetto definire i tempi troppo brevi della prescrizione in realtà ragioniamo di un effetto e la causa sono i tempi troppo lunghi della giustizia giustificati in questo caso dal 2009 siamo tuttora alle udienze del processo di primo grado da una complessità da una eterogenia dei soggetti potenzialmente responsabili alcuni tra l'altro di nazionalità tedesca altri di nazionalità austriaca di un tema su cui dovremo ulteriormente approfondire anzi vorrei ricordare alla presidenza del consiglio che abbiamo preso un impegno di audire le famiglie l'associazione del mondo che vorrei e gli altri che vorranno venire altrimenti possiamo vedere di farlo come commissione perché c'è un problema non solo di normativa sulla sicurezza italiana ma di normativa europea volta mi permetto di dire evidentemente a un eccesso di liberalizzazione rispetto e all'inesistenza di un meccanismo piuttosto semplice di sicura efficace qual è quello della responsabilità civile per quanto riguarda i veicoli su gomma che non esiste nel trasporto ferroviario e quindi quando avvengono vicende come questa tra proprietari della struttura gestori dell'infrastruttura fornitori dei vaponi sub fornitori di altri strumenti è difficile anche individuare non solo responsabile penale saranno i magistrati a giudicare le responsabilità penali ma anche un responsabile civile detto questo appunto come gruppo del PD siamo favorevoli sia all'emendamento che alla mozione una volta emendata grazie presidente Baccelli presidente Fattore e anche io telegraficamente anche noi favorevoli sia all'emendamento che alla mozione un ringraziamento al Movimento 5 Stelle per per averla presentata pensiamo anche noi che la riforma dei tempi di prescrizione per reati come appunto strage colposa perché piace benissimo Baccelli a utilizzare il termine strage perché appunto di strage si tratta di strage colposa appunto si tratta sia una questione assolutamente centrale e quindi l'impegno anche rispetto alla Giunta perché porti una conferenza Stato-Regione perché in Parlamento in tutte le sedi possibili diciamo la volontà in questo senso comune perché mi sembra di capire anche l'esito della votazione è a questo punto e sarà diciamo così scontato è questione essenziale e aggiungo anche che questo è anche credo un bel modo per poter essere tutti insieme la maggioranza e le varie opposizioni a fianco appunto non solo delle vittime della strage di Viareggio ma di tutti i cittadini di quella zona fatto appunto che credo vada ben al di là diciamo così delle parole formali che sia esattamente ciò che tutti quanti come Consiglio regionale sentiamo di di dover fare dunque appunto voto favorevole per la per la mozione e per l'emendamento grazie Presidente Fattori Cantone per dichiarazione di voto grazie Presidente chiaramente la la nostra dichiarazione la dichiarazione che nomino a nome del nostro gruppo è favorevole mi preme ma penso sia solo una leggera dimenticanza d'accordo anche con un'occhiata di intesa col mio concittadino Gazzetti consigliere la tragedia del Movi Prince sicuramente è stata quella più grave anche se non è avvenuta in terra è avvenuta ma è solo giustamente una leggera direi dovuta più che altro all'impegno ai tempi che avevamo ora dedicato stamattina già al Consiglio e pertanto è quello che appunto il voto favorevole è anche quello che vuole sottolineare come questa lungaggine che vengono purtroppo e si notano purtroppo continuamente nel corso di quelli che sono i processi abbiamo processi durati anni e come al solito in questi casi quello che voleva essere una norma perché potesse abbreviare quelli che erano i tempi della giustizia italiana in una che è una cattiva abitudine di noi italiani l'abbiamo portata ad essere invece il contrario ad essere quello di un altro ulteriore strumento per coprire le spalle ai mafiosi agli assassini di Stato agli assassini comuni e porre ulteriormente come dire dei freni appunto al percorso della giustizia toglie la dignità dei lavoratori delle forze dell'ordine dei tribunali che dovevano in breve tempo portare ad avere vista la consoddisfazione e il compimento del loro lavoro per poter appunto avere completato questo percorso che con le indagini con il giudizio con le condanne e con l'accettezza dell'ispirazione della pena si riesce ad avere una giustizia rapida giusta qui in Italia pertanto ribadisco chiaramente il voto favorevole del nostro gruppo grazie presidente grazie grazie consigliere Cantone allora se non ci sono altri interventi metto in votazione l'emendamento così come letto e distribuito favorevoli contrari astenuti allora l'emendamento è approvato la mettiamo in votazione la mozione così come emendata favorevoli contrari astenuto la mozione è approvata passiamo ora alla discussione di quanto è scritto all'ordine del giorno al numero settantadue superamento degli attori rifiuti e attuazione dell'articolo 201 decreto legge 152 del 2006 proponenti Giannarelli Quartini Galletti vedo il presidente Giannarelli per la presentazione prego grazie presidente così per fare un quadro in origine c'erano le autorità d'ambito autorità d'ambito che nel 2010 sono state abolite da una legge nazionale con con il decreto legge numero 2 del 25 gennaio 2010 furono abolite per quale motivo perché erano considerate in un'ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione erano considerate dei centri di spesa inutile e cito le parole precise cosa succede nel 2011 la regione toscana cambia nome non le chiama più autorità d'ambito ma le chiama ATO ambiti territoriali ottimali che di fatto sono quello che erano prima sono cioè centri di spesa inutile perché attualmente questi ATO hanno solo funzioni amministrative e non erogano il servizio quindi si configurano in tutto e per tutto tanto quanto come l'autorità d'ambito che la legge ha abolito allora noi qua chiediamo nel dispositivo fondamentalmente tre cose il primo è un rispetto della legge un rispetto della legge che prevede il superamento di queste forme consortili di questi centri di spese inutili quindi un rispetto del decreto legge 25 del 2010 numero 2 chiediamo che si apra un ragionamento per rivedere integralmente l'organizzazione dell'attuale modello che oggi è strutturato su questi tre ambiti territoriali ottimali tra l'altro così come è oggi strutturato è non conforme a quanto prescritto anche dalla direttiva europea 98 del 2008 perché dico questo perché oggi all'interno dell'ambito territoriale ottimale i comuni hanno potere di voto in base all'impiantistica tra le varie elementi in base all'impiantistica presenti nel loro territorio e paradossalmente chi ha un inceneritore conta di più di chi fa raccolta differenziata sopra il 90% e questo è il netto contrasto con la direttiva europea 98 del 2008 che prevederebbe l'esatto contrario cioè premiare tutte le azioni virtuose in tutti i luoghi quindi paradossalmente dovremmo avere comuni i più virtuosi che contano di più anche perché loro stessi avendo sperimentato le buone pratiche dovrebbero indicare l'indirizzo politico corretto e il terzo punto è verificare la legittimità di tutti questi atti usciti dall'autorità d'ambito perché di fatto leggendo la normativa secondo noi sono illeciti ma noi chiediamo che venga fatta una verifica complessiva grazie grazie a Giannarelli mettiamo in votazione la mozione c'è l'intervento di Monia Monni gli cedo la parola grazie presidente come richiamato dal testo della mozione 72 la suprema corte con la sentenza 128 del 2011 ha stabilito che l'ordinamento nazionale per quanto di interesse in merito all'oggetto della mozione riselva al legislatore regionale ampia discrezionalità consentendoli di scegliere i modelli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio le disposizioni in merito di cui alla legge regionale 69 2011 costituiscono l'attuazione formale e sostanziale dell'ampia discrezionalità in materia che come richiamato lo stesso giudice costituzionale riconosce alle regioni in proposito appare contraddittorio l'assunto fatto proprio dalla mozione in esame secondo il quale il giudice costituzionale nel riconoscere l'ampia discrezionalità regionale nella scelta del modello organizzativo del servizio avrebbe qualificato come residuale la competenza regionale in materia laddove il tenore testuale del dispositivo come riportato nella stessa mozione afferma esattamente il contrario la contraddizione nel testo è ancora più evidente laddove la stessa mozione peraltro riconosce e correttamente la legittimità nella definizione regionale degli ambiti ottimali detto ciò occorre evidenziare che la 69 del 2011 risulta coerente anche con l'attuale quadro normativo nazionale di riferimento e in particolare l'articolo 19 del DL 95 del 2012 che modifica l'articolo 14 del DL 78 2010 dispone l'attribuzione in capo ai comuni di diverse funzioni fondamentali tra le quali quella dell'organizzazione di servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale IVI compresa l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione quindi dei relativi tributi alla lettera F del comma 28 dell'articolo 14 del DL 78 2010 al comma 1 bis dell'articolo 3 bis della legge 14 settembre 2011 numero 148 introdotto dall'articolo 34 del DL 179 2012 e dunque successivo alla norma regionale che stabilisce invece la modalità di esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali al rete di rilevanza economica compresi quindi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani di scelta della forma di gestione di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza di affidamento della gestione relativo controllo individuando nell'ente di governo d'ambito o bacino territoriale ottimale ed omogeneo istituito o designato dalla regione ai sensi del precedente comma 1 dello stesso articolo l'unico soggetto legittimato ad esercitarle l'apparente contrasto fra le due norme ove non si voglia sostenere che il comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138 2011 abbia di fatto abrogato quale norma speciale la lettera F dell'articolo 14 comma 28 del DL 78 del 2010 non può che essere risolto nel senso che pur rimanendo la visualità della funzione di gestione dei rifiuti urbani in capo ai comuni ne sia stato reso obbligatorio l'esercizio attraverso l'ente di governo partecipato obbligatoriamente dai comuni che ricadono nell'ambito di riferimento tant'è che la legge di stabilità 2015 è intervenuta attraverso le modifiche al citato articolo 3 bis a rafforzare il ruolo degli enti di governo d'ambito stabilendo che le deliberazioni di tali soggetti siano regolarmente assunte senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte degli enti locali che li compongono specificando inoltre che spetta agli enti di governo la predisposizione della relazione prescritta dall'articolo 34 del DL 18 ottobre 2012 numero 179 si ribadisce che la funzione di affidamento dei servizi debba essere esercitata nel contesto di talienti la legge regionale 69 2011 è perciò coerente con le norme nazionali successivamente approvate ora io credo che avremmo potuto consiglieri affrontare questo argomento in tanti modi per esempio avremmo potuto portarlo nella commissione quarta dove c'è un percorso condiviso aperto sul tema dei rifiuti nella quale credo ci possiamo reciprocamente riconoscere un atteggiamento di laicità anche e di ascolto verso anche posizioni che nascono molto diverse avremmo anche potuto trovare perché no qualche obiettivo comune da perseguire invece quando gli strumenti di confronto ma anche di contrasto e di senso si sostanziano esclusivamente di tesi tecnico-giuridiche e quindi noi ci siamo visti rispetto a una mozione molto tecnico-giuridica a dare una risposta dello stesso tenore vuol dire che la politica ha abdicato al suo ruolo non c'è politica in questa mozione e quindi noi non possiamo che prenderne atto ed esprimere un voto contrario bene mettiamo c'è ancora scritto Giannarelli per dichiarazione di voto l'articolo 138 comma bis relativo comma 4 insomma non sto a citare un film famosissimo ma il punto è puramente politico è puramente politico quando la mia collega Moni la liberate però se c'è questa apertura da parte mia c'è la massima disponibilità a ritirarlo per un passaggio in commissione meglio a rinviarlo in commissione perché il tema è puramente politico salvo appellarsi ai vari articoli 4 comma bis eccetera eccetera di fatto c'è comunque un nodo da sciogliere perché ci sono delle incongruenze anche a livello giuridico puro c'è anche una questione di visione politica come vogliamo affrontare lo scenario che ci aspetta con la gara eccetera eccetera prendendo come insegnamento gli errori commessi in alto sud perché abbiamo situazioni dove stiamo già sperimentando il fallimento di una scelta politica secondo noi sbagliata allora partiamo da quello per evitare i soliti errori e quindi se c'è questa volontà laica cito di affrontare il problema in modo serio io rinvio l'atto in commissione monia monni ha assegnato con annuire a questa sua richiesta l'accettazione di questa disponibilità con fronte approfondimento quindi l'atto rientra in commissione a questo punto passiamo alla 73 presentata da vescovi da alberti da borghi da casucci e da montemagni vedo in questo momento fra i 5 in aula la consigliera montemagni in merito al ricollogamento operai della smith di volterra e alla crisi in val di cescina a lei la parola sì io intervengo ne ho parlato prima con i miei colleghi e mi hanno chiesto mi hanno espresso la volontà di poter rinviare la mozione se possibile in commissione in modo da poterne fare una discussione un attimino più ampia e poterla approfondire quindi rinviamo in commissione anche la 73 per poter come diceva la collega Montemagni approfondire e raccogliere un più vasto consenso presi in posizione esigente adesso la 74 adozione di politiche economiche e sociali regionali volte a garantire ai cittadini toscani l'accesso quotidiano e gratuito ai primi 50 litri di acqua potabile ad uso domestico Giannarelli Quartini Galletti Cantone Bianchi la presenta non vedo ancora iscritto nessuno a parlare Giannarelli la parola a Giannarelli bene io direi che questa proposta è una proposta di puro buonsenso anche qua ci rifacciamo a quanto prevede l'ONU da quanto ci si è espressi come forza politica anche durante il referendum quindi direi che con questo atto misuriamo tre aspetti il primo è la coerenza con quanto è avvenuto politicamente durante il referendum sull'acqua pubblica dove tutte le forze politiche si sono espresse a favore dei quesiti referendari che politicamente richiamavano al diritto dell'acqua pubblica al fatto che l'acqua dovesse uscire dalle logiche del mercato e dalle logiche del profitto misuriamo anche una sensibilità verso i più bisognosi e direi che questo secondo i vostri criteri sarebbero politiche di sinistra perché storicamente i più bisognosi sembrerebbe che si sia abbattuta di più la sinistra questa è una lettura che non condivido fino in fondo ma vi piace ricordare la storia allora richiamo anche a questo test misuriamo quanto è la sensibilità verso i più bisognosi e misuriamo anche quanto è la conoscenza rispetto alla normativa esistente perché ripeto c'è tutto un quadro normativo giuridico di diritti di carte di diritto che esprimono in modo chiaro qual è la strada con questo atto chiediamo che i primi 50 litri di acqua siano gratuiti al giorno e per tutti Tommaso Fattori grazie presidente il mio intervento è scontato essendo la mia storia molto legata al diciamo al movimento dell'acqua tra l'altro ricordo la prima volta sono entrato in questo consiglio regionale fu proprio in un'audizione di quella che allora era la sesta commissione quando presentammo la prima legge iniziativa popolare uno dei punti della nostra legge iniziativa popolare che poi all'epoca il consiglio per la verità bocciò ma che poi ha originato il percorso che ha portato al referendum nazionale era proprio la richiesta dei 50 litri gratuiti a testa a disposizione di tutti e come sapete è uno dei punti fondamentali da sempre portato avanti dal contratto mondiale dell'acqua e soprattutto di un lavoro internazionale che ha portato al voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011 proprio un voto una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in cui si chiede appunto fra le varie cose il riconoscimento si riconosce il diritto umano all'acqua e c'è proprio il tema dei 50 litri cioè quello che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è il minimo vitale gratuito per un bene appunto essenziale come l'acqua è evidente che questo diciamo è uno dei tanti punti che rientrano in una costellazione più vasta che è appunto quella dell'assicurazione del diritto all'acqua veniva giustamente richiamato il referendum ricordiamo che dopo tanti anni la maggioranza assoluta degli italiani votò per diciamo una gestione pubblica dell'acqua e per l'eliminazione di quella che si chiama tecnicamente la remunerazione del capitale investito cioè quello che poi brutalmente diciamo sono i profitti sappiamo bene che insomma l'esito il secondo quesito referendario non è dei migliori perché si sono trovate diciamo delle scappatoie e sostanzialmente ancora diciamo con un nome diverso ma la remunerazione del capitale investito diciamo a tutt'oggi è ancora mantenuta ed è vero quello che ricordava adesso il presidente Giannarelli cioè che poi alla fine moltissimi gruppi insomma decisero di appoggiare il referendum ricordo anche che l'attuale presidente del consiglio Matteo Renzi fu uno dei pochi a dire due no il Partito Democratico aveva un'altra posizione ma lui disse due no su questo tema e naturalmente perse perché la posizione del no prese il 3% diciamo al voto popolare nazionale questo per ricordare diciamo come dire il contesto nel quale si inserisce poi ora la mozione che il 5 Stelle diciamo porta in discussione in consiglio e nel contesto naturalmente saranno gli atti che io spero si potranno prendere tutti insieme per cercare di attuare diciamo l'esito referendario però ecco facendo il passo indietro diciamo rispetto al tema specifico dei 50 litri quindi diciamo della quantità minima universale di questo bene essenziale da garantire a tutti i cittadini privadisco è uno dei punti centrali di tutte diciamo le battaglie internazionali sul diritto all'acqua è contenuta all'interno della risoluzione votata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e pensiamo che sia una ottima idea riproporla all'interno di questo consiglio che ha ripeto una storia perché è in Toscana che è nato il movimento nazionale dell'acqua e in Toscana che hanno mosso i primi passi quei movimenti che poi hanno portato al referendum del 2011 e alla vittoria del 2011 grazie Casucci grazie Presidente riteniamo che la mozione presentata dal gruppo 5 Stelle volta all'adozione di politiche economiche e sociali così da garantire ai cittadini toscani l'accesso quotidiano e gratuito ai primi 50 litri di acqua potabile ad uso domestico sia volutamente ideologizzante ma siamo anche noi consapevoli del sostanziale fallimento della gestione mista pubblico privata del servizio idrico e del controllo dello stesso da parte dell'autorità idrica toscana dal report Istat del 2014 sul censimento delle acque per uso civili e viene rilevato che i gestori della nostra regione fanno acqua scusate a Calenbur da tutte le parti le perdite in rete sono aumentate dal 2008 del 10% dei controlli che hanno riguardato prevalentemente le province di Firenze Pistoia e anche di Arezzo si evince che vi è stato il netto peggioramento della qualità delle acque se andiamo poi a toccare il tasto dolente degli investimenti considerando che la nostra è una delle regioni che ha l'acqua più cara in Italia scopriamo che i soldi pagati in tariffa per gli investimenti dei cittadini sono stati utilizzati a tal fine solo in parte la totalità dei gestori non ha mai realizzato tutti gli interventi previsti Lega Nord è fermamente convinta che sia necessario adottare la gestione cosiddetta in-house che preveda l'affidamento diretto a società esclusivamente e direttamente partecipate dai comuni o da altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale quindi siamo per dar corso alla cosiddetta acqua pubblica solo così sarà concretamente possibile garantire a tutti i cittadini soprattutto ai più bisognosi un accesso economicamente giusto all'acqua nel rispetto della dignità e senza uscite demagogiche come riteniamo la proposta in questione Grazie Monia Monni Grazie Presidente Una premessa tutta l'acqua sia superficiale che sotterranea è pubblica per legge e la proprietà è del demanio dello Stato il suo prelievo ovviamente per legge è subordinato a autorizzazioni di varie autorità pubbliche le reti gli impianti e gli acquedotti sono di proprietà pubblica e sono inanienabili per legge e per articoli del codice civile quindi non sono privatizzabili poi ci sono i gestori che sulla base di piani definiti dall'autorità di ambito devono realizzare investimenti migliorati finalizzati scusate a migliorare la qualità dei servizi questo in Toscana negli ultimi 15 anni e faccio riferimento a questo periodo temporale perché 15 anni fa prima regione in Italia la Toscana applicò la legge Galli sulla tariffa ha significato la realizzazione di 2 miliardi di investimenti siamo in assoluto una delle regioni che ha investito di più e lo abbiamo fatto peraltro con un ricorso bassissimo al finanziamento pubblico a fondo per l'uso nella misura del 10% medio e con questi investimenti peraltro in controtendenza con il decennio precedente in cui gli investimenti nel settore idrico hanno visto un calo estremamente brusco sono serviti per esempio per passare dalla decorazione del 50% della popolazione servita all'85 sono serviti per realizzare impianti di trattamento che hanno consentito penso in particolare alla costa di superare criticità importanti come l'inquinamento da boro e da arsenico sono serviti a realizzare l'invaso di bilancino che ha risolto grande parte dei problemi di approvvigionamento idrico nei periodi di siccità sono state stese e interconnesse le reti anche fognari quindi uscendo dal pericolo dell'infrazione europea è stato migliorato il servizio introdotta molta innovazione anche tecnologica che rendono le nostre aziende tra le più evolute di Europa è stato esteso il sistema dei fontanelli pubblici e promosso il consumo di acqua del rubinetto e quindi di risparmio anche idrico con vantaggio ovviamente per l'ambiente e per la riduzione dei rifiuti la tariffa ormai da qualche anno è decisa dall'autorità idrica toscana che sostanzialmente è l'assemblea dei comuni e dall'autorità per l'energia elettrica gas e servizio idrico che è un'autorità indipendente di livello nazionale come ben sappiamo ha la caratteristica di dover coprire il costo dell'intero servizio quindi come ricordato anche peraltro nella mozione dei 5 stelle la gratuità dei primi 50 litri è un'operazione fittizia poi sostanzialmente i costi vanno spalmati sui consumi successivi la mozione la mozione e questo naturalmente apre un problema di sostenibilità tariffaria e di equità sociale che la mozione risolve chiedendo di andare a colpire i consumi eccedenti c'è però un problema e faccio un esempio per farvi capire cosa comporterebbe praticamente questa operazione facendo l'esempio dell'azienda che conosco meglio e che è Publiacqua Publiacqua talmente ha due fasce di eccedenza in cui necessariamente ricadono le famiglie numerose che a parità di consumi metro cubo persona chiaro sono di più consumano di più una differenza importante perché pagano due o tre volte la tariffa quindi la bolletta di una famiglia invece non numerosa quindi di tre persone e per dare un'idea del possibile impatto concreto che questa operazione comporterebbe calcolando che Publiacqua serve circa un milione e duecentomila utenti residenti si tratterebbe di erogare gratuitamente 22 milioni circa di metro cubi d'acqua sugli 84 milioni totali che l'azienda eroga quindi si renderebbe gratuito il 26% dei consumi fatturati gravando ovviamente sull'altro 76% quindi il 41% del consumo personale dovrebbe essere reso gratuito a farne le spese oltre alle famiglie numerose sarebbe anche il sistema delle imprese perché chiaramente dovendo comunque in qualche modo rendere sostenibile anche la fascia di eccedenza questi consumi andrebbero traslati questi costi andrebbero traslati sul sistema delle imprese con riflessi che non sto qua a spiegare sono chiari ed evidenti per tutti infine la misura proposta non ha neanche una finalità di equità sociale in quanto è indirizzata a tutti indipendentemente dalla condizione economica segnalo invece che l'autorità idrica toscana sta rivedendo il sistema tariffario con l'obiettivo di ridurre seriamente drasticamente il costo dei primi 30 metri cubi di acqua pro capite che sono circa 33 litri a componente di rimodulare la tariffa tenendo conto nelle sue componenti anche del numero dei componenti del nucleo familiare andando comunque a gravare sugli sprechi che quindi sostanzialmente le tariffe di eccedenza rimarrebbero fatte salve le famiglie numerose e introducendo la differenziazione secondo me fondamentale tra residenti e non residenti che è un modo per andare a penalizzare i consumi stagionali e tutelare invece le famiglie queste scelte a nostro avviso vanno nella direzione di garantire una maggiore equità nell'applicazione tariffaria quindi della delle famiglie numerose costo basso per i consumi primari e invece maggior costo per i non residenti e quindi una maggiore equità del provvedimento inoltre il diritto universale richiamato è comunque garantito in Toscana si parla di Toscana perché tutti hanno un fondo da destinare tutte le nostre aziende alle famiglie con un basso reddito che per quanto riguarda Publiacqua ammonta 2 milioni di euro l'anno che non è una cifra bassissima e che ci consente di intervenire in aiuto alle famiglie che hanno un reddito più basso in conclusione noi riteniamo che la misura proposta abbia un carattere populista che avrebbe in sostanza alla fine effetti negativi sulle famiglie in particolare su quelle numerose sul sistema delle imprese rischierebbe soltanto di aumentare le situazioni di morosità innalzando per alcune categorie il livello della tariffa fino a diventare insostenibile quindi chiaramente voteremo voto grazie alla vicepresidente monni per questo dettagliato intervento giannarelli per la dichiarazione di voto si grazie presidente se fare atti politici che vanno nell'interesse dei cittadini dei più bisognosi e del popolo noi siamo populisti sia chiaro lo chiarisco fin da subito da qua ai prossimi 5 anni la mancata fatturazione per la gratuitità dei primi 50 litri di acqua potabile giannarelli può essere facilmente ripartita col criterio della progressività diluendola sulle eccedenze erogate quindi si può fare si può fare anche perché libera un normativo la legge regionale 69 del 2011 prevede sebbene sia l'autorità dell'energia elettrica e il gas a stabilire l'algoritmo la regoletta per fare il calcolo della tariffa prevede che l'assemblea dei sindaci svolga la funzione di deliberare la struttura stessa dei corrispettivi e la quantità minima giornaliera da erogare gratuitamente allora decidiamoci non voglio 50 litri sono troppi facciamone 20 facciamone 30 ma è un diritto che deve essere garantito e noi dobbiamo prenderci questa responsabilità politica di fare un atto per la civiltà poi Monni è la persona meno indicata per parlare di questo tema è stata nel CDA di Publiacque ricordoci Publiacque composta il 60% da comuni Firenze e altri comuni della Piana Fiorentina il 40% da un socio privato Acque Blu Fiorentine tra le quali nella compagine c'è Acea S.P.A. Ondeo Italia Monte De Paschi Monte De Paschi Consorzio Cooperativo e Costruzioni Viennini Lavori S.P.A. Consorzio Scala Cooperativa eccetera eccetera c'è un leggero conflitto di interessi piccolo piccolo allora magari la prossima volta su questo tema siete in tanti che parli qualcun altro però ritornando all'atto anche Mara si è un po' in difficoltà anche su quest'atto su quest'atto su quest'atto è una cosa esattamente semplice vi siete spesi nel referendum a sostegno della campagna referendaria per l'acqua pubblica quando siete messi di fronte ai fatti alla prova dimostrate quello che siete un blef Tommaso Fattori dunque grazie grazie presidente dunque in verità una discussione approfondita richiederebbe più tempo io credo che ci siano diciamo delle questioni di fondo perché la consigliera Monni richiamava il tema dell'equità sociale è evidente che l'impostazione diciamo che alla base diciamo così dei 50 litri gratuiti ora per razonare diciamo in termini stringati cioè quindi del minimo vitale è quella che riguarda diciamo in generale tutti i servizi pubblici universali lo stesso ragionamento che si fa per la salute lo stesso ragionamento quindi per il sistema sanitario che si fa per la scuola pubblica cioè il tema è l'universalità tutti devono avere accesso al servizio indipendentemente diciamo così dalla in questo caso accesso al bene indipendentemente dalla loro condizione economica e sono le tasse è la fiscalità generale che deve portare ad una diciamo così progressiva contribuzione da parte dei cittadini ma non è che diciamo nel momento in cui si va in un ospedale in cui si va in una scuola in cui si ha accesso al minimo vitale di acqua siamo tutti uguali poi naturalmente si deve contribuire in forma diversa attraverso la fiscalità generale al finanziamento di questi servizi ora questo ci porterebbe ecco di qui la razio diciamo della proposta storica diciamo del nostro movimento la questione diciamo è quella poi del diciamo del modello toscano che effettivamente come dire meriterebbe una discussione approfondita sappiamo che le tariffe in Toscana sono le più alte d'Italia la questione degli investimenti che veniva richiamata è una questione molto più complessa nel senso che tra l'altro non siamo mai riusciti ad ottenere dei dati specifici su buona parte di questi investimenti e per quello diciamo la parte che ho potuto analizzare ho notato che sono state fatte delle cose diciamo abbastanza singolari ciò ciò che un tempo la dico in forma molto anche qui stringata ciò che nel precedente gestione totalmente pubblica veniva considerata manutenzione ordinaria per esempio adesso viene considerata investimento questi sono diciamo artifici di bilancio perché se io cambio una voce quella che fino a un certo punto cambio i carboni attivi era considerata manutenzione ordinaria e la metto a investimento sto facendo diciamo un artificio di bilancio ma non è che poi di fatto sto realmente ma ripeto poi la considerazione dovrebbe essere di sistema il problema di fondo a mio parere è che noi abbiamo oggi o siamo diciamo così non siamo in grado di prevedere tutti gli investimenti necessari sul sistema idrico la stessa CISPEL dice da tempo occorrono soldi pubblici per poter fare gli investimenti necessari portare le tariffe alla diciamo così al livello tale da poter garantire gli investimenti necessari sul servizio porterebbe a un tale innalzamento sono già altissime ma porterebbe a una diciamo a un tale innalzamento che non sarebbero più sostenibili quindi sono gli stessi diciamo gestori riuniti assieme che dicono c'è bisogno di avere fondi pubblici per diciamo riuscire a rispondere alle esigenze il che tra l'altro capite bene ci porterebbe una situazione ci porta a una situazione paradossale che è quella della socializzazione dei costi e la privatizzazione dei benefici perché se abbiamo un sistema in cui dei soci privati si portano a casa i profitti però poi di fatto arrivano soldi pubblici per poter fare gli investimenti ci troviamo una situazione paradossale mi sta finendo il tempo ma c'è un'ultima cosa a mio parere che va anche considerata noi abbiamo costruito un modello che è tra i più costosi possibili perché essendo questo un servizio capital intensive cioè che ha necessità di grandi quantità di capitale per appunto gli investimenti nel momento in cui ci si lega mani e piedi attraverso il meccanismo privatizzato al sistema privato del credito per prendere i fondi necessari per gli investimenti cioè quindi al sistema più costoso per avere il credito e di fatto stiamo facendo la cosa diciamo più sbagliata possibile non voglio dire un tempo c'era la cassa depositi e prestiti potrebbero esserci molte forme le abbiamo suggerite mille volte i bond dell'acqua vengono utilizzate anche in altre diciamo in altri paesi chiaramente in un sistema pubblico però cioè un sistema pubblico che quindi può avere accesso a un credito a un tasso che non è il tasso di mercato è un tasso vicino al tasso di sconto della banca centrale europea in un caso di un servizio capital incentive che quindi ha bisogno di grandi quantità di credito poter avere diciamo una soluzione di questo genere porterebbe a un abbattimento gigantesco diciamo dei costi perché sono legati in parte agli interessi non è un caso che dietro a tutto questo ci siano ovviamente colposi interessi delle banche perché si diceva sono i privati che porteranno i soldi per gli investimenti sappiamo benissimo che le banche non hanno portato scusate i privati non hanno portato soldi e investimenti si usava a vedere i bilanci gli investimenti vengono fatti con soldi presi a prestito dal sistema bancario creditizio privato quindi diciamo il tema è una riflessione sul modello io sono un sostenitore del modello pubblico certo c'è anche come dire un pubblico inefficiente facciamo un pubblico efficiente questo sì naturalmente però un modello pubblico sarebbe il meno costoso per i cittadini e il più rispondente ai servizi di cui stiamo parlando che sono appunto servizi essenziali legati a diritti fondamentali dei cittadini Elisa Montemagni sì io intervengo per dichiarazione di voto ma ci tengo a precisare che effettivamente come qualcuno ha già detto nonostante noi condividiamo lo spirito della mozione quindi lo spirito della mozione è condiviso però abbiamo dei problemi a pensare a dove prendiamo poi questi soldi per pagare tutta questa cubatura d'acqua è ovvio che quando uno tira fuori una mozione del genere deve capire anche se ci sono le coperture per poterlo fare penso no e inoltre ci teniamo anche a ribadire che prima di pensare all'acqua gratuita che ripeto ci vede anche d'accordo sotto certi punti di vista dobbiamo pensare a trovare il sistema di far arrivare l'acqua potabile a tutti perché ci sono ancora paesi dove non c'è l'acqua potabile ci sono ancora altri paesi dove l'acqua in alcuni periodi dell'anno nemmeno arriva allora se magari prima pensiamo a questo io penso che sia la priorità semmai che il servizio energetico scusate il servizio idraulico possa riuscire a coprire l'intero territorio della Toscana non è possibile che in paesi in idrica arpagnana d'estate l'acqua non arriva rimanga senza acqua in piena estate allora siamo nel 2015 magari prima pensiamo agli adeguamenti di quelli che sono gli impianti è ovvio che qui mi verrà risposto ci devono pensare gli antigestori è chiaro che ci devono pensare gli antigestori delle acque però siamo indietro su questo come regione non siamo indietro su altre cose e per quanto riguarda la mozione noi decidiamo di astenerci a questo punto perché siamo d'accordo ma non capiamo come se ne possa uscire è una rete estremamente districata non capiamo come si possano trovare le coperture e poi effettivamente quale sia anche il reale risponso su chi va a gravare come viene risolto il problema delle famiglie numerose lo diceva prima la collega Monni è vero le aziende forse o va approfondita la mozione o altrimenti per noi non ci sono i margini per votare favorevolmente grazie Leonardo Marras grazie presidente queste dichiarazioni di vostro non è per questione personale perché non è una questione personale quella di cui vorrei parlare nella dichiarazione di vostro non ha necessità di essere difesa da Consigliere a morte è un appello però a tutti quanti a tenere garbo decoro rispetto a ciò che siamo e che rappresentiamo chiunque di noi ha titolo a parlare rispetto a ciò che rappresenta e a chi rappresenta nessuno di noi è a diritto a chiedere il ragione di chissà quale principio di non parlare sugli argomenti di cui si discute in aula questa è una regola di rispetto reciproco che se viene meno viene meno il rispetto anche personale su questo non possiamo cadere e io invito anche il presidente quando accadono questi episodi a rimproverare i consiglieri perché cadere in queste bassezze non è tollerabile e non è rispettoso dell'aula in cui noi sediamo perché altri migliaia di cittadini come migliaia di cittadini sono stati quelli che hanno votato la consigliera Monni hanno fatto e siccome i conflitti di interessi sono stati valutati dall'aula e prima da una commissione e tutti noi abbiamo convalidato queste elezioni non possiamo permetterci di semplicemente anche insinuare pregiudizi anche perché anche perché chi ha un passato e lo manifesta con trasparenza non è diverso o forse diciamo potrebbe anche esserlo ma mi limito a dire non è diverso da chi un passato non ce l'ha ed è semplicemente sconosciuto allora allora o ci rispettiamo e come è successo anche in questo caso si discute di che cosa vogliamo qual è l'impianto accesso al credito pubblicità patrimoniale universalità come si sviluppano certi principi abbiamo sentito una posizione noi abbiamo dato conto di un'altra perché su questi temi dal referendum ad oggi c'è stata un'evoluzione concreta e noi diamo delle esprimiamo degli indirizzi per esempio industrializziamo costruiamo addirittura soggetti in grado di svolgere anche sul mercato finanziario la loro funzione di abbattere questa pressione abbiamo un dibattito aperto in Italia ne rappresentiamo una parte ma se sconfiniamo se sconfiniamo non emerge il merito del confronto io rispetto le posizioni diverse una posizione una proposta abbiamo semplicemente attraverso un nostro rappresentante motivato la nostra posizione credo che questo non possa essere mai criminalizzato bene procediamo al voto no no perché lei ha già fatto le sue affermazioni molto forti e sinceramente di pessimo gusto Marras ha Marras ha risposto per diciamo fatto personale perché in questo caso sono state delle affermazioni molto dirette fermiamo qui non c'è bisogno di andare oltre peggioriamo la situazione non ha fatto nessuna io non ho visto nessun attacco personale ho visto una risposta a una sua affermazione le ho espresso la mia valutazione io poi sono persona che cerco sempre di trascendere perché è il modo migliore per non dare eco e quindi non accentuare questo spirito per cui per questo dico fermiamoci qui ci siamo intesi e conseguentemente andiamo al voto chi è favorevole a questa mozione chi è contrario chi si astiene bene la mozione è respinta procediamo con l'ulteriore mozione è quella che si riferisce alla salvaguardia del territorio la 75 allora provvedimenti della giunta regionale merita ricorso straordinario il presidente della repubblica presentato da terna contro regione toscana per l'allunamento previa sospensione la delibera del consiglio la 37 del 2015 Giannarelli Bianchi Cantone in questo caso ha chiesto la parola a Baccelli allora la parola a Baccelli grazie grazie presidente per appunto premetto le conclusioni di questo breve intervento che sarà la richiesta di rinvio in commissione da cosa motivata beh motivata da una questione di condivisione che abbiamo assolto dal mio punto di vista ma credo oggettivamente con la non collegata tecnicamente ma sostanzialmente interrogazione a cui proprio ieri ha risposto l'assessore Fratoni che avevo presentato ma facendola sottoscrivere a tutti quanti i membri della commissione quindi devo dire seppur non caricando la vicenda di diciamo aspetti diversi e complottisti che sono rimasto un po' sorpreso che nei giorni immediatamente successivi questa mozione fosse presentata sullo stesso argomento e anche con un testo analogo non proponendo la sottoscrizione quantomeno per l'appunto ai membri della commissione ambiente detto questo al di là del metodo trovo che anche nel merito occorra questo approfondimento per un verso perché nella parte impegnativa si chiede alla giunta di fare quel che proprio ieri l'assessore Fratoni ha fatto dandoci le massime garanzie non solo in ordine alla costituzione in giudizio della regione toscana ma a quello strumento quindi il ricorso giurisdizionale davanti al TAR che per i comuni interessati per i cittadini interessati era considerato come il più garantista e quindi il preferito ma diciamo anche per l'altra parte impegnativa con particolare riferimento alla vicenda della garanzia di una coerenza tra le attività di Terna e il piano paesaggistico regionale noi crediamo che occorra un approfondimento e in qualche modo anche un'estensione voglio ricordare proponenti che vicende analoghe accadono anche su altri territori che sono ad esempio il territorio di Vaiano in cui c'è anche lì una progettazione diciamo considerata mi parlo legittimamente invasiva quindi chiudo sul punto chiederei a proponenti di poter rinviare in commissione semplicemente per approfondirle e per redigere in modo più puntuale bene Bianchi grazie presidente vabbè la nostra azione era quella di rafforzare per avere i tempi più brevi possibili una presa di posizione della giunta perché ad oggi mancano 24 giorni affinché la giunta impugni per lo meno presente le contradduzioni all'intervento di Terna presso la presidenza del consiglio io ho personalmente anche chiesto di condividere questa mozione anche valutando la possibilità di emendare anche oggi il discorso di inserimento del comune di Vaiano che è interessato e fra l'altro siamo in contatto con i comitati però insomma potremmo anche inserirla oggi un emendamento che include anche il territorio di Vaiano che comunque è nella stessa situazione di quello di Lucca quindi qualora la regione prenda in pugni la situazione i problemi si risolvono entrambi relativamente a questi impianti di Terna c'è solo da dire una cosa che abbiamo contattato telefonicamente il ministero dell'ambiente che ci ha detto che ancora la via non è a disposizione visto che il sopralluogo non ci sono ancora gli esiti del sopralluogo avvenuto a Lucca relativamente agli impianti quindi siamo disponibili anche ad andare in commissione ma anche a valutare adesso l'emendamento per poter accelerare i tempi in essere che sono aspettati da gran parte delle popolazioni di quei territori grazie sì sì no no anche anche a rinvio ma anche a fare un emendamento al momento in modo che possa arrivare subito nei luoghi bene Montemagni sì grazie presidente ovviamente credo che questo consiglio si sia già espresso in maniera unitaria sulla situazione di Terna credo che la posizione sia stata chiara sia dell'interrogazione che tutti noi abbiamo firmato ma anche dalla risposta dell'assessore Pratoni di ieri io sarei d'accordo se possibile riparportare questa mozione in commissione perché di fatto ci sono dei punti che mi piacerebbe o modificare o approfondire perché se si parla delle azioni che la regione intende comunque assumere al fine di garantire l'ammodernamento della distribuzione dell'energia io credo che la competenza non sia regionale ma sia ministeriale se si parla di motivazioni che intende avanzare anzi di riferire sulle motivazioni che intende avanzare al fine di rispondere singoli punti costituenti ricorso io credo che bisogna andarci un po' cauti su questo punto soprattutto perché parlarne in commissione significa dare modo a Terna di sapere quali saranno anticipatamente le mosse della regione quindi ci si potrebbe ripercuotere contro io credo che portarla in commissione e discuterla visto che penso che sia una cosa unanime su cui andiamo tutti nella stessa direzione sia la cosa migliore perché un po' capisco che il tempo sia poco chiediamo magari non so se si può fare una commissione in maniera celere per parlarne però di fatto così mi preoccupa parecchio il fatto di votare una mozione che dice si riferisce in commissione gli atti che la giunta cioè comunque quello che la giunta intende fare o che la regione intende fare per andare contro a questo ricorso mettiamo Terna in posizione di vantaggio gli diciamo prima cosa fa la regione è rischioso è molto rischioso quindi io personalmente non me la sento di votarla così perché io non voglio favorire Terna anzi voglio che Terna perda e perda in maniera vistosa anche su questa cosa e questa cosa qui a me mi preoccupa quindi non credo di sentirmi la di votare a favore ma a questo punto io coglierei lo spirito anche il dibattito lo rinviamo in commissione e lì vediamo quello che può venire fuori velocissimo come fatto operativo che il termine di 24 siamo garantiti dalla risposta dell'assessore fratone quindi c'è tempo per approfondire perché si costituirà la regione e davanti al Tare come appunto avevamo richiesto quindi grazie grazie a lei prima di passare prima di passare alla numero 76 alla mozione numero 76 che è quella sui diserpanti chimici volevo far presente ho ricevuto una telefonata sul fatto che ricordate voi abbiamo approvato una mozione all'unanimità sulle questioni che riguardavano diciamo la presenza di manufatti infatti specie l'origine era stata per Firenze Radinantes Cannottieri Comunali sui fiumi mi è stato segnalato che il Tribunale Superiore delle Acque ha confermato la sospensione di ogni provvedimento quindi ha in qualche modo raccolto anche diciamo un'indicazione rinviando tutto al giudizio di merito e affermando che è opportuno che da qui all'udienza che sarà il 21 di gennaio è opportuno che gli enti era stato oggetto di una mozione sia per quanto riguarda la regione sia per quanto riguarda il Comune di Firenze questa vicenda tengano fede a quanto li è esplicitato e noi nella nostra mozione ci eravamo impegnati ad attivare un tavolo per poter arrivare a una modifica di legge quindi io mi sento a questo punto anche sulla base della sollecitazione del modo con cui è stata comunicata la sentenza di convocare un tavolo che sarà tecnico-politico quindi io coinvolgerò i capigruppo che avevano approvato in modo da vedere davanti ai tecnici quali può essere la soluzione perché la modifica all'integrazione di legge possa avvenire con il massimo consenso però direi che la nostra mozione ha avuto un riscontro anche nelle parole del Presidente del Tribunale Superiore delle Acque che a Roma ha comunicato quanto appunto poc'anzi ho detto passiamo alla mozione 76 è presentata a Giannarelli Galletti Cantone Bianchi salvaguardia del territorio regionale dall'uso di libertanti chimici e le sostanze tossiche anche di origine naturale delle sostanze salite negli interventi di controllo degli infestanti al di fuori delle pratiche agricole Galletti Rene Grazie Presidente colleghi allora questa mozione che abbiamo fatto parte dal presupposto che abbiamo a livello nazionale della tutela del territorio da tutte quelle che sono le sostanze chimiche e gli inquinanti sia che vengano utilizzate in agricoltura che vengano usati per l'utilizzo extra agricolo noi qui ci siamo concentrati come ovvio trattandosi del Consiglio regionale toscano sul territorio regionale toscano in particolare sull'utilizzo extra agricolo mi riferisco in particolare all'utilizzo che viene fatto di sostanze chimiche nella fattispecie per essere più precisi glifosato ma anche altri per quanto riguarda il diserbo di alcune aree del territorio il glifosato viene utilizzato molto perché è commercialmente una molecola di basso costo e di facile utilizzo viene commerciato in maniera ordinaria e in grandissime quantità nella regione toscana e su tutto il territorio italiano da parte nostra la razza di questa mozione è di ridurne il più possibile l'utilizzo proprio in virtù di quella difesa del territorio che in molte altre azioni questo Consiglio ha portato avanti per quanto riguarda l'agricoltura per quanto riguarda la tutela delle acque bene noi riteniamo che l'utilizzo del glifosato ma anche di altri diserbanti sostanze saline per il diserbo per quanto riguarda ad esempio i bordi delle strade oppure di altre zone non agricole dove è necessario procedere a una riduzione delle erbe infestanti anche qui il concetto di erbe infestanti va rivisto a mio avviso in merito a quanto si possa ritenere le erbe spontanee un fastidio per il territorio quanto invece una risorsa bene noi chiediamo con questa mozione che la regione nei limiti dei suoi ambiti e per le sue possibilità riduca il più possibile l'utilizzo e proibisca l'utilizzo del glifosato per quanto riguarda per esempio gli appalti quando vengono fatti degli appalti noi richiediamo ad esempio che si richieda all'interno del bando che vengano utilizzati dei metodi meccanici piuttosto che chimici con l'utilizzo del glifosato e di altro quindi noi infatti riguardo a quanto presentato è mandato in commissione dal collega Donzelli siamo sicuramente in opposizione è necessario fare un'informazione anzi delle persone degli utilizzatori per l'uso di queste sostanze gli enti pubblici naturalmente devono avere un'attenzione particolare perché ne fanno un uso particolarmente estensivo il fenomeno dei campi rossi che attualmente non è visibile ma nella stagione estiva è particolarmente diffuso è un fenomeno grave che è da valutarsi dal punto di vista del ecologico e sanitario l'utilizzo di queste sostanze che spesso non è preavvisato da parte degli enti pubblici crea anche dei gravi problemi di salute perché ci sono stati casi di persone che hanno subito l'inalazione di queste sostanze e sono dovute ricorrere a cure mediche per problemi di natura prettamente appunto respiratoria quindi noi chiediamo con questa mozione appunto abbiamo qui leggo quello che è l'impegno che noi chiediamo in particolare è che la regione come dicevo prima nei suoi ambiti sia attivi per utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per contrastare l'uso di queste sostanze quindi glifosato ma anche altro quindi che garantisca che nei bandi di gara emanati dalla regione per gli appalti pubblici riguardanti gli interventi di contenimento degli infestanti e sottolineo contenimento e non eliminazione venga indicato come unica tipologia possibile la rimozione meccanica che come avete potuto vedere leggendo le considerazioni fatti preventivamente è un utilizzo che non solo è efficace e economicamente sostenibile ma protegge l'ambiente e quindi è possibile ci sono tutti i dati ISPRA che dicono quanto sia fattibile questa possibilità chiediamo che si faccia impegno anche di interloquire con i responsabili del settore manutenzione e qui riferisco alle province quindi con la manutenzione stradale delle province perché all'interno del territorio regionale siano utilizzati esclusivamente questo tipo di metodologie e in aggiunta a questo chiediamo che venga fatta un'informazione puntuale con incontri comunicazioni scritte circolari nei confronti dei rivenditori di tutto il territorio regionale e qui è ben facile una cosa che potremo discutere anche in commissione preparare dei documenti dove venga messa a conoscenza i rivenditori e che a loro volta mettano a conoscenza gli acquirenti delle sostanze perché vengano fatte appunto un attento lavoro di informazione riguardo ai rischi per l'ambiente e la salute umana nell'utilizzo di queste sostanze questo a nostro avviso copre un settore molto ampio di quello che sono le prerogative della regione la tutela dell'ambiente la tutela salute e la tutela della nostra agricoltura e quindi dello sviluppo economico grazie grazie Serena Spinelli sì grazie presidente naturalmente condividiamo la preoccupazione che non è solo con preoccupazione come dire di questo consiglio ma sull'utilizzo di questi materiali elementi chimici c'è letteratura internazionale quindi come dire è nota la pericolosità rispetto in particolar modo al clifosate ma vorrei ricordare a questo consiglio che abbiamo discusso all'inizio dei nostri lavori proprio di questo tema su sollecitazione del consigliare Fattori che fece un'interrogazione apposita su questo tema all'assessore Saccardi questo per dire che il voto del mio partito sarà un voto favorevole ma che tuttavia vorrei dare atto a quello che la regione ha già in essere il decreto approvato pochissimo tempo fa dalla giunta regionale il 4 agosto del 2015 è addirittura restrittivo rispetto all'utilizzo di queste sostanze rispetto a quanto stabilito sia della disciplina europea che della disciplina nazionale in particolar modo nell'ultimo comma del documento della delibera si prevede l'utilizzo del clifosate solo in caratteri in elementi del tutto eccezionali laddove non sia possibile appunto fare un'azione di tipo meccanico o di altro genere e dove la necessità di diserbare costituisca un come dire un elemento di sicurezza rispetto ad alcuni ad alcuni servizi nella fattispecie spesso le linee ferroviarie o cose analoghe quindi c'è già una disciplina regionale restrittiva rispetto a quella nazionale a cui credo semplicemente forse come Consiglio dovremmo fare riferimento per vedere un'adeguata attuazione della stessa come dire la regione toscana non parte in questo caso dal punto zero e credo che questo sia un elemento di sicurezza e di certezza anche nei confronti del lavoro del Consiglio grazie grazie Tommaso Fattori in verità appunto